Tempo di cambiare, episodio 12 Ciao, sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it all'indirizzo web dove trovi archiviati tutti gli episodi precedenti e anche futuri di questo podcast il mio consiglio è sempre quello di scaricare l'audio in formato mp3 sul tuo smartphone, sul tuo ipod e così via sul tuo lettore, così lo puoi ascoltare mentre fai altre cose questo è sicuramente ideale, per esempio mentre passeggia l'aria aperta o ti sposta in auto o durante uno dei tanti tempi morti che di solito si creano nel corso della nostra giornata la cosa più sconsigliata è ascoltarlo mentre fai altre cose perché questo non ti aiuta a riflettere quindi mentre aggiorni il tuo profilo facebook o mentre rispondi alle mail no, questo francamente te lo sconsiglio ma è solo per il tuo bene sei naturalmente libero di fare come credi novità di questa settimana, da quando ci siamo sentiti l'ultima volta giovedì scorso ebbene sì, i greci hanno votato e hanno votato per i partiti che sono a favore della permanenza all'interno dell'euro di commenti non letti tanti quello che mi sembra più azzeccato è quel commentatore che diceva la paura ha prevalso sulla rabbia la rabbia era quella che faceva dire al diavolo l'euro e tutti gli eurocrati e la paura invece è quella che faceva dire se però usciamo dall'euro perdiamo tutto, rimaniamo in miseria almeno per alcuni anni paura e rabbia quindi sono entrambe emozioni distruttive oltre che strettamente collegate perché la rabbia sorge sempre dalla paura senza paura non c'è rabbia però ecco appunto sono entrambe distruttive ma fra le due la paura è sicuramente la più profonda ed è sicuramente la più profondamente distruttiva fra le due e quindi non a caso hanno reagito alla paura i greci piuttosto che alla rabbia se fossero usciti dall'euro avrebbero avuto davanti a sé sacrifici, lacrime, sudore e sangue e su questo non ci piove però con buona probabilità di risollevarsi in giro di pochi anni l'abbiamo già visto succedere l'argentina e in mille altri casi essendo rimasti nella zona euro invece adesso hanno davanti a sé sacrifici, lacrime, sudore e sangue infatti anzi con l'aggravante che il crollo è soltanto rimandato di qualche tempo e questo dimostra cosa? dimostra che l'essere umano preferisce rimandare i problemi mettere la testa sotto la sabbia preferisce la gratificazione immediata piuttosto che non rimboccarsi le maniche e lavorare alla risoluzione a lungo termine di un problema soprattutto quando questo comporta qualche sacrificio che dire, auguri ai greci, il problema è rimandato non solo per loro il problema è rimandato per tutti noi sulle pagine animatissime del nostro blog che anche stavolta ha ampiamente superato i 600 commenti e questo dice tutto, la dice lunga, 600 commenti su una sola pagina la dice lunga sul successo, come dire, sulle corde profonde che stiamo toccando con questo podcast e col pubblico che stiamo raggiungendo nuova novità della settimana sulle pagine del nostro blog è spuntata la proposta di un incontro estivo soprattutto per il piacere di conoscerci e di incontrarci il popolo di Tempo di Cambiare e nelle parole di Martino che ha lanciato la proposta per primo ha scritto per vedere cosa farne di tutte queste informazioni che stiamo digerendo attraverso il podcast e dunque quale migliore occasione se non incontrarci di persona conoscerci, guardarci negli occhi e così via ai primi di agosto bene, io ho dato entusiasticamente la mia adesione ci sarò adesso la cosa è nelle mani di questo spontaneissimo comitato di organizzazione che sta appunto vagliando diverse possibilità ci sono alcune sfide organizzative e difficoltà sicuramente perché siamo ad agosto e ad agosto prenotare qualsiasi cosa con un mese di anticipo è quasi proibitivo però l'incontro si farà di certo perché c'è la volontà, c'è l'ammissione, le migliori intenzioni e quindi a questo punto l'incontro si farà di certo il primo incontro dal vivo riservato se così posso dire al pubblico di Tempo di Cambiare agli amici di Tempo di Cambiare 3, 4, 5 agosto 2012 segnati queste date 3, 4 e 5 agosto 2012 venerdì, sabato e domenica l'incontro è aperto a tutti assolutamente tutte le persone di buona volontà di qualsiasi background sia sono attesi a braccia aperte l'idea è quella di conoscerci di fare amicizia tanto per cominciare spiriti animati dalla stessa intenzione di migliorare il mondo c'è fin troppa solitudine e isolamento nelle nostre vite cosa c'è di meglio di incontrarci e scambiare le nostre idee soprattutto avviare gruppi di lavoro in certe direzioni concrete e nella direzione di certi progetti concreti gruppi di lavoro, gruppi di studio per iniziare a costruire qualcosa in positivo che sia al di fuori della matrix non abbia bisogno di combattere la matrix perché combattere la matrix significa dare energia al sistema e soprattutto come abbiamo già tante volte ripetuto in questo podcast qualcosa che non abbia bisogno di aspettare il crollo della matrix costruire un nuovo sistema senza aspettare che il vecchio crolli quindi ci saranno proposte concrete esperienze di discussione ci sarà qualche esperienza di meditazione se lo vorremmo questa è un po' la mia specialità introdurre in modo semplice chi inizia completamente da zero senza alcuna esperienza precedente al mondo della meditazione ma giusto come una cosa a lato non occorre background non occorre esperienza non occorre aderire ad alcuna fede ad alcuna ideologia è un incontro aperto a tutti aperto a tutte le persone di buon cuore che hanno l'intenzione positiva di migliorare il mondo in compagnia di altre persone simili a noi spero che tu metti da parte queste date sulla tua agenda sul tuo calendario certamente ti darò aggiornamenti al prossimo episodio la prossima settimana e poi dopodiché occorrerà iscriversi rapidamente per bloccare la struttura che stiamo cercando una struttura sufficientemente capiente per accogliere un certo numero di persone che vediamo quale sarà occorrerà iscriversi dicevo anche se fammi sottolineare iscriversi non significa affatto che questa sarà un'iniziativa a fine di lucro io non verrò pagato le persone che stanno lavorando all'organizzazione non verranno pagati nessuno verrà pagato per iscriversi intendo semplicemente prenotare quello che sarà che sia un albergo che sia un che sia un un posto in mezzo alla natura o che sia un luogo un campeggio dove si possa piantare le tende qualunque cosa sia ci sarà qualcosa da pagare sicuramente come sempre per il vitto e per l'alloggio che dire considerati gli argomenti di cui stiamo trattando in questo podcast questo rischia di diventare rischia per virgolette di diventare il primo e il più numeroso incontro mai fatto in Italia su questi argomenti e con queste premesse anche se il preavviso è così ristretto che siamo già alla ventina e passa di giugno e l'incontro ai premissimi di agosto quindi il preavviso è limitatissimo nonostante questo conto che sia in un certo senso un evento per tutti noi e quindi conto anche sulla tua presenza e spero nella tua presenza ancora un grazie a chi a chi a chi sta facendo funzionare il forum dietro le quinte con umiltà ha creduto nel progetto del forum fino all'inizio lo sta facendo vivere non solo usandolo e scrivendoci ma anche animandolo e addirittura a chi moderandolo in particolare i miei ringraziamenti a Antonio e Sanni i due moderatori volontari che stanno rivedendo tutta la struttura del forum in vista di una sua maggiore usabilità semplicità e così via questo diventerà questo forum tempodichambiare.it slash forum potrà diventare uno strumento straordinariamente utile nel momento in cui in estate saremo costretti a pause più lunghe fra un episodio e l'altro e questo già ti posso dire che avverrà con certezza perché so già per certo che avrò alcune settimane in cui sarò completamente impossibilitato a mantenere l'appuntamento settimanale quindi dicevo se avremo pause più lunghe fra un episodio e l'altro pause estive più lunghe sarebbe scomodissimo continuare a scrivere i nostri commenti su un'unica pagina specialmente quando i commenti superano i 600 1000 passa commenti diventa poi pesantissimo da caricare la pagina oltre che scomodissimo leggere seguire discussioni quindi se in quel momento ci sarà il forum come ci sarà con la sua struttura user friendly come si dice con i suoi aiutanti che spiegano come fare come migliorare le difficoltà se ci sono i moderatori e così via sarà tutto pronto per proseguire nel modo migliore la nostra discussione in un luogo più appropriato ancora grandi novità Andrea il protagonista della lettera di accettazione condizionata del debito nei confronti della propria banca ha messo incredibilmente e generosamente a disposizione di tutti gli ascoltatori di tempo di cambiare la lettera che ha scritto la banca e che ha fatto improvvisamente cambiare idea cambiare atteggiamento e diventare docili dall'oggi al domani i funzionari della sua banca questa lettera è stata aggiunta alle risorse e la puoi scaricare liberamente grazie ad Andrea non ci aspettavamo tanto non era certo non era dovuto da parte tua la considera una grande gesto Andrea quindi grazie veramente grazie grazie a nome di tutto il pubblico di tempo di cambiare qui la leggo rapidamente ovviamente ci sono la potrai scaricare è fra le risorse ma poi ci sono anneriti i riferimenti a tutela della privacy la banca comunque dice Andrea è giusto che si sappia qual è perché questo è un istituto pubblici che non hanno bisogno di è la Banco San Geminiano e San Prospero Banca Popolare Società Cooperativa Banco San Geminiano e San Prospero Aria Affari Modena Sud eccetera eccetera accettazione condizionata e verifica del debito in riferimento alla vostra raccomandata eccetera 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 presso la succursale eccetera eccetera formula la presente per informarvi che lo strumento negoziale è stato accettato per valore alla prova di credito cioè qui Andrea sta dicendo quello che mi avete scritto io lo accetto cioè non inizia con un rifiuto quindi mettendosi mettendosi contro ma dice quello che avete scritto è stato accettato e quello che avete scritto potrà essere motivato inoltrando la previa verifica dei dati di debito entro inoltre il 16-6-2012 mette anche una scadenza ultimativa e questo è un eccellente atteggiamento perché come dire anch'io non ho tempo da perdere con voi così come voi non avete tempo da perdere con me in particolare chiedo di avere copia contratto originario del conto corrente contratto originario di apertura del credito contratto originario di mutuo chirografario numero eccetera eccetera contratti e convenzioni successive tutti gli estratti trimestrali da giugno 2010 a marzo 2012 che diceva Andrea non era riuscito ad avere tutta la documentazione attestante il calco dell'interesse il calco delle spese e il totale delle competenze addebitate sul conto corrente numero eccetera 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 allo stato attuale nonostante le ripetute segnalazioni al personale interno la succursale di puntini puntini a partire da ottobre 2011 non siamo in grado di effettuare suddette verifiche dei dati di debito a causa di carenze documentarie ottimo quindi questa è la condivisione come vedi questa lettera è fin troppo tenera nei riguardi della banca rispetto a quella che abbiamo pubblicato e a cui si ispira c'è la lettera che ha fatto cancellare un debito di 74.000 dollari australiane ed è nell'episodio numero 9 è una revisione di questa molto più tenera nei confronti della banca quello diceva dimostratevi che nel fare dimostratemi innanzitutto che nel fare questo prestito avete subito una perdita l'intendeva dire io so benissimo che voi il denaro lo avete creato dal nulla e quindi cosa pretendete adesso poi numero 2 dimostratevi che avete dimostratemi che esiste denaro di valore in grado di ripagare questo debito eccetera insomma una serie di condizioni veramente molto 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 pesanti eppure senza essere arrivato a tanto Andrea con una lettera garbatissima ha ricevuto una preoccupatissima lettera da parte del funzionario di banca che ha detto che succede non potrebbe venire qui a discuterne con noi e così via quindi interessante grazie Andrea per aver condiviso e sicuramente auspico sulle pagine di questo podcast in seguito sul forum e così via un maggiore coordinamento di coloro che lavorano in questa direzione e che sono ripeto sotto l'aggressione del sistema e hanno qualcosa da mettere al riparo o da salvare rispetto a questa aggressione parliamo di banche parliamo di equitalia parliamo di tasse e così via che dire infine sempre siamo in tema di che dire non ho mai letto né ringraziato quelli che i numerosissimi ascoltatori che mi scrivono soprattutto per ringraziarmi per dire grazie diciamo che soprattutto per pudore personale fino ad ora non ho mai letto i grazie 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 forse questa è un'ingiustizia o anche perché spesso mi mi concentro sulle lettere sui commenti più critici più aggressivi che ricevo sia per far vedere che non li ignoro e non ho paura di rispondere anzi sono sempre amante di un buon dibattito finora normalmente nelle lettere nelle risposte di ascoltatori preferisco rispondere sempre a quelle più polemiche e quindi nel far questo non ho mai ringraziato abbastanza quelli che mi scrivono lettere positive di ringraziamento che sono una grande maggioranza quindi qui giusto colgo la palla al balzo per leggere una di queste email una di questi commenti un commento sul blog e nel far questo ringrazio non solo l'autore di questo di questo commento che si si firma emo grazie emo ma nel far questo ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto lettere gentili di ringraziamento sono così tanti da non poter essere elencati tutti commento numero 10 Italo per i temi che divulghi il tuo podcast è diventato un appuntamento imperdibile un caso mediatico da studiare che qualcuno proverà anche a imitare ma soprattutto un avvenimento per la vita di molti anche per la mia nonostante che su molti dei seri argomenti che hai trattato in modo chiaro e pacato avessi già fondata conoscenza dietro questa tua iniziativa si percepisce l'irrefrenabile bisogno sentito da tantissime persone di capire di condividere di fare qualcosa lo stesso che ha spinto l'avvocato Paola Musu piuttosto che la giornalista Jane Burgermeister a fare inizialmente da sole la denuncia che hanno fatto non ti aveva ancora detto grazie scusa se lo faccio solo adesso grazie Italo grazie a tutti bene grazie ah fra l'altro subito sotto leggo Luciano che scrive Italo solo una parola grazie quello che stai facendo ha un immenso valore e così via ripeto sono talmente tante da poter leggere tutte quindi grazie 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 a voi perché il vostro ascolto il vostro interesse il vostro contributo è la vostra partecipazione a rendere reale e a rendere possibile questo podcast non solo certo i miei monologhi che lasciano il tempo che trovano ancora volevo leggere cosa ci ha scritto sempre sulle pagine del blog Mirka vediamo cosa ci scrive Mirka Italo grazie in primo luogo grazie per il bene che mi hai portato ho seguito tutti i podcast seguito i commenti letto ho fatto ricerche e così via è un tratto un battito di ciglia e le cose hanno preso forma sono guarita e spero sia così dalla paura costante che avevo di andare in mezzo alle persone tanto da rasentare il panico paura perché c'era qualcosa che non capivo e non quadrava e mi sentivo di non appartenere a quel mondo che non aveva senso non sono però una che dice che la colpa è degli altri se c'è qualcosa di sbagliato cambio me stessa ma sicuramente non vado a pensare che siano gli altri che debbano cambiare veramente sei stato risveglio ho fatto psicoanalisi e terapia ma una botta così netta e chiara non l'ho mai presa quindi grazie non so se a me o a te ma sto quindi grazie non so se a me o a te ma sto finalmente bene vorrei anche aggiungere la mia opinione sulla situazione che stiamo vivendo in Italia anche se il problema è globale al di là del fatto che ci hanno portato via tutto diritti soldi lavoro educazione eccetera ci ritroviamo con una classe dirigente che è stata derubata ancora più di noi stiamo mantenendo un teatrino di marionette che non ha più alcun potere e l'unica cosa che è rimasta loro da fare è dire di sì all'Europa abbiamo un primo ministro non eletto ma sostenuto dall'Europa e quindi va bene continuano a fare leggi incostituzionali a ritoccare la costituzione stessa e i vari codici per adattarli meglio a loro agire sono praticamente dei fuori legge hanno gettato le basi dell'anarchia quindi la domanda che nasce perché noi dobbiamo rimanere dentro la legge quando una legge di fatto non c'è più sono assolutamente d'accordo con te e tutti che non si può soverchiare il sistema con mezzi violenti e anticostituzionali ovvero che non mi devo comportare da scemo se uno è scemo ma non mi va neanche bene che mi dicano fai quello che ti dico e non quello che faccio non hanno più alcun diritto di rimanere dove sono come non hanno ragione di rimanere dove sono perché non stanno facendo assolutamente niente in una qualsiasi azienda ti licenziano se non c'è niente da fare per te penso che la stessa cosa vada applicata a loro e dal momento che per fortuna la costituzione ancora dice che il popolo è sovrano dovremmo chiedere all'unanimità le loro dimissioni il mezzo più ovvio che mi viene in mente è la raccolta di firme ma così tanta carta inchiosto sono stati sprecati con le firme è riscontrato che non servono a niente ci sono suggerimenti? facciamo l'incontro di agosto nella bella zona di Arezzo mi sembra più centrale e quindi più comoda grazie Mirka grazie per il tuo contributo a nome di tutti sono felicissimo di sentire il tuo miglioramento di salute e della tua sanità mentale recuperata forse anche per il fatto di esserti sentita finalmente in compagnia e non estranea in un mondo estraneo giustissima l'analisi che hai fatto nella seconda parte della tua mail la totale illegalità dei nostri cosiddetti governanti la totale incompetenza dei nostri cosiddetti governanti che come tu dici non stanno facendo niente senza contare la corruzione morale dei nostri cosiddetti governanti e quindi tu dici chiedere dimissioni va bene però chiedere le loro dimissioni per rimpiazzarli con chi e soprattutto chiedere le loro dimissioni per fare cosa visto che il Parlamento come tu stessa hai evidenziato non conta più nulla il Parlamento è un teatro di burattini privo di potere che obbedisce all'Europa l'Europa obbedisce alla Commissione Europea e ricordo a tutti gli ascoltatori che la Commissione Europea non è eletta fammelo ripetere la Commissione Europea non è eletta e questo equivale a dire che la democrazia è stata sospesa io e te viviamo ufficialmente una dittatura in questo preciso momento nella dittatura europea di una Commissione non eletta ma nominata dalle multinazionali chimiche farmaceutiche industriali militari eccetera 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 ora qual è la soluzione l'unica soluzione che a Mirka non è chiedere le loro dimissioni e neanche con sostituirli perché se li sostituissimo col migliore dei geni questo sarebbe irrilevante questo punto non farebbe più alcuna differenza quello che dobbiamo fare è svuotare dall'interno il loro potere in maniera tale che non rimanga a loro più niente su cui governare nel loro sistema corrotto cioè in altre parole andare avanti per la nostra strada creare un nuovo sistema a partire dalla base a partire dalle radici a partire dalle radici dell'erba come dicono gli inglesi grass roots senza aspettare che crolli il vecchio sistema è questo che deve essere il nostro slogan quanto a noi quanto a questo podcast basta analizzare il problema basta analizzare abbiamo analizzato abbastanza ripeto anche in questo podcast storie dell'orrore ne abbiamo sentite abbastanza le vediamo tutti i giorni nei video youtube adesso è l'ora di costruire la soluzione storie dell'orrore magari continuerò a inserirle io stesso in questo podcast ma a piccolissime dosi omeopatiche perché hanno una loro funzione utile servono a educare chi si affaccia per la prima volta a sentire questi podcast ci sente e pensa oh ma questi che problemi hanno non sta andando tutto quanto a meraviglia nel mondo non è tutto normale non è una semplice crisi economica passeggera tutti sanno che fra poco fra qualche mese questa crisi passerà c'è ancora gente che pensa a questo c'è ancora gente che non si accorta che i cieli non sono più azzurri c'è ancora gente che non si accorta che quando gli indichi le scie chimiche non ti credono non credono a quello che dici quindi per il beneficio di queste persone e siccome di queste persone risvegliate ce ne sono tantissime fra gli ascoltatori di questo podcast allora è ormai scientificamente dimostrato che un po' di storie dell'orrore aiutano aiutano a risvegliare le coscienze ma a piccole dosi il focus di questo podcast sempre più vuole essere sulla soluzione e non sul problema fra 15 secondi l'oligarchia transnazionale corrotta che governa il mondo in segreto che ruolo sta svolgendo una nuova interpretazione dello stato di cose presente tanti anni fa in una delle mie esplorazioni nel mondo dell'alimentazione naturale e delle medicine naturali che come sai è una delle mie passioni e interessi incontrai gli insegnamenti della dottoressa Hulda Clark una dottoressa canadese la dottoressa Clark scriveva un libro chiamato La cura di tutte le malattie già il titolo molto interessante e in questo libro dimostrava che in tutte le malattie degenerative a carico di qualsiasi organo interno si trovava che era presente una formidabile quantità di parassiti una vera e propria infestazione ora questo caso è molto molto interessante perché dimostra che la vera differenza nella nostra vita la fanno non tanto le cose in sé ma l'interpretazione che noi diamo delle cose in questo caso specifico della dottoressa Clark il fatto che l'infestazione da parassiti riguardasse il 100% degli organi malati qualunque fosse la malattia e qualunque fosse l'organo era infestato da parassiti non fu questo a fare la differenza ciò che fece la differenza fu la sua interpretazione l'interpretazione della dottoressa Clark noi abbiamo un organo malato abbiamo la presenza di parassiti in effetti questi due fenomeni si potrebbero interpretare in tanti modi diversi giusto? lei decise di interpretarlo in termini di causa ed effetto cioè se abbiamo la malattia a carico di quest'organo è perché i parassiti hanno infestato quest'organo quindi la teoria quindi la filosofia espressa da questo libro batteri e parassiti sono fondamentalmente le corpi strane non solo sono fondamentalmente i nostri nemici i nostri organi e quella teoria è interessante non è priva di interesse i nostri organi diceva la dottoressa Clark sono tenuti insieme sono tenuti in salute da una forma di energia questa energia tiene insieme l'organo ma che cos'è l'energia? l'energia non è altro che informazione le cellule comunicano fra di loro si scambiano informazioni le cellule all'interno di un organo questa comunicazione forma in un certo senso la coscienza dell'organo cioè il senso di identità di quest'organo che finché si conserva questo senso di identità l'organo diventa inattaccabile a qualsiasi aggressione esterna ma quando l'organo si indebolisce e soprattutto i nemici batteri e parassiti aumentano di numero l'energia di questi ospiti sgraditi cioè le loro comunicazioni le loro informazioni la loro energia chiamiamolo il loro campo di coscienza chiamiamolo così diventa prevalente prevale sul nostro campo di coscienza cioè mentre il nostro fegato dovrebbe fare il suo lavoro di filtrare le tossine smette di fare questo lavoro perché prevale lo scopo dei parassiti che sarebbe quello di scavarsi strade autostrade il nostro fegato eccetera 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 questa era la teoria della dottoressa Clark quindi questa presenza di organismi strani infestanti disse lei quella l'azione di questi micro-organismi strani è la causa di tutte le malattie ora questo è un modello che cos'è un modello? un modello è un'idea applicata a qualcosa come tutte le teorie questo è anche un modello e come tutti i modelli è irrispettabile il punto è non è se è vero o no perché tutti i modelli alla fine sono ugualmente veri il punto è questo modello è utile o meno in questo caso nel caso dottoressa Clark le raccomandazioni che lei dava per preservare la salute erano conseguentemente la sua teoria erano evitare la sporcizia come la peste bubonica lavarsi e disinfettarsi le mani ogni volta che si tocca qualsiasi cosa ripulire l'intestino dai parassiti con apposite erbe antiparassitarie mangiare soltanto cibo sterilizzato addirittura in scatola cucinati cotto e bollito mille volte non mangiare mai insalati al ristorante e insomma quando leggemo le raccomandazioni dietetiche della dottoressa Clark io e mia moglie Francesca che già ci occupavamo da tanti anni di alimentazione naturale diciamo che un po' inorridimmo ci sembrava che la sua la sua la sua la sua teoria fosse interessante ma la sua pratica fosse a dir poco carente molti molti anni dopo e qui ti assicuro che non sto divagando ma sto arrivando da qualche parte con questa apparente divagazione molti anni dopo incontrammo una un nuova dottrina teoria dietetica nel campo dell'alimentazione naturale è una particolare branca di crudismo sicuramente sentito parla di crudismo questa branca si chiama raw paleo diet è ancora abbastanza poco diffusa in Italia lo potremmo tradurre paleo dieta crudista immagino paleo dieta crudista ora la cosa più bella dei modelli è che tutti i modelli alla fine funzionano per esempio noi oggi abbiamo un'invenzione che è l'invenzione della plastica la plastica è stata inventata sulla base di un modello atomico e un modello delle particelle subatoni atomiche completamente sbagliato in base alle conoscenze che abbiamo oggi quel modello è errato eppure grazie a quel modello abbiamo costruito la plastica e la plastica esiste veramente sotto i nostri occhi ed esiste ancora oggi quindi i modelli non si distinguono in base a quale è più vero e quale è più sbagliato i modelli si distinguono in base al risultato che producono e quanto a risultati stupefacentemente due teorie così diverse sembravano produrre entrambe i risultati cioè le terapie della Clark funzionavano i suoi pazienti veramente guarivano ma la cosa interessante è che anche questi qui della raw paleo diet della paleo dieta crudista funzionavano altrettanto bene tumori guarivano epatiti malattie gravissime degenerative e così via guarivano sia in un caso che nell'altro allora qual è il nucleo di questa paleo dieta crudista è mangiare un'altissima quantità di proteine animali rigorosamente crude carne cruda uova crude derivate del latte crudi rigorosamente non pastorizzati eccetera 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 ora se parliamo di carne cruda lasciamo da parte un attimo la questione etica non è di questo che sto parlando so che molti di voi sono vegetariani per scelta etica e questo lo rispetto al mille per mille facciamo finta che non esiste questa questione parliamo solo della salute per questo momento uno dei fondatori di questa paleo dieta crudista portava come esempio le culture indigene le culture native ma parliamo dall'estremo nord all'estremo sud per esempio parlava dei pigmei africani che ammazzano gli elefanti e li sotterrano e fanno letteralmente andare in putrefazione la carne per mangiarsela cruda e putrefatta ora ti lascio immaginare la proliferazione batterica che possa accadere in questi casi ad altre latitudini completamente diverse gli eschimesi facevano la stessa cosa con le foche con le balene li catturavano le mettevano a frollare a maciullare in un luogo non nel ghiaccio dove non si sarebbero macerati o putrefatti che dir si voglia ma in posti abbastanza protetti dove c'era una temperatura più alta che consentiva di disfarsi a questa carne e dopo qualche giorno la iniziavano a mangiare rigorosamente cruda ora negli anni 50 si scoprì dai medici che erano lì presso gli eschimesi che il cancro era assolutamente sconosciuto presso gli eschimesi e la loro dieta che era praticamente 90% colesterolo perché questi mangiavano fochi e grasso di balena crudi il loro sangue presentava zero tasso di colesterolo nel senso non avevano assolutamente eccesso di colesterolo nel sangue tutto questo attenzione prima che arrivassero anche da loro lo zucchero bianco e le farine raffinate dopo che sono arrivate anche gli eschimesi lo zucchero bianco e le farine raffinate allora sono iniziati tumori colesterolo malattie degenerative eccetera eccetera quindi parliamo della dieta antichissima nativa qual è la teoria che sta alla base ti prometto che non sto divagando e arrivo da qualche parte la teoria che sta alla base è la teoria degli enzimi cioè quando la foca morta inizia a disfarsi quegli enzimi sono già presenti intrinsecamente nella foca e sono quelli che la autodistruggono in un certo senso quando smette di vivere allo stesso modo se noi lasciamo questi enzimi vivi e la foca ce la mangiamo cruda saranno questi stessi enzimi a digerirla velocemente senza sovraffaticare il nostro organismo che dobbiamo noi produrre gli enzimi per digerire una foca cotta scusate la natura sconveniente di questo argomento ma insomma sto cercando di fare un punto un punto ok la teoria degli enzimi dice tutti gli alimenti vivi latte non pastorizzato latticilli non pastorizzati uova crude eccetera eccetera sono ricchissimi di enzimi se noi cuociamo questi cibi gli enzimi vengono distrutti totalmente morti dalla cottura questo significa che noi dobbiamo noi produrre gli enzimi per digerirli questi cibi e siccome l'energia vitale che produce gli enzimi è la stessa energia vitale che serve per mantenerci in vita e per produrre i nostri enzimi di cui noi abbiamo bisogno per tutti i nostri processi vitali perché tutti i nostri processi vitali a cominciare dalla respirazione digestione movimento eccetera eccetera hanno bisogno di enzimi per funzionare quindi se noi sprechiamo la nostra forza vitale in produrre questi enzimi digestivi diventiamo sempre più deboli e alla fine moriamo la morte arriva dicevano in effetti questi studiosi quando noi smettiamo di produrre enzimi perché siamo troppo indeboliti dall'aver dovuto produrre tutti questi enzimi per la digestione del cibo una teoria molto molto interessante se ti interessa se leggi dall'inglese ti posso consigliare un libro molto interessante per approfondire questo si chiama we want to live ovviamente non esiste in italiano we want to live è un librone che può originare da amazon è bellissimo ma in realtà se vuoi la scorciatoia ti raccomando www.energytraining.id www.energytraining.it che è il programma di mia moglie che ti spiega come applicare poi questa dieta anche questa dieta crudista concretamente nella tua vita ora questa è la dottrina c'è un'obiezione l'obiezione è che quando tu mangi della carne andata male che sia di elefante che sia di foca che sia di balena quella carne è obiettivamente infestata da batteri e parassiti e allora com'è possibile che i vostri pazienti guariscono se la dottoressa Clark ha dimostrato che la causa di tutte le malattie sono i parassiti allora la risposta di questi pali o dieta crudisti dicono no noi abbiamo un modello completamente diverso voi considerate nemici i batteri e i parassiti e questo è uno dei tanti modelli possibili noi preferiamo adottare una metafora diversa per noi questi microrganismi sono vivono insimbiosi con noi dall'inizio alla fine dei nostri giorni vivono con noi vivono insimbiosi in altre parole i batteri e i parassiti sono quegli amici sono quegli alleati che restano pazientemente all'interno del nostro organismo sempre comunque anche quando fai una dieta di tutto cotto e tutto bollito non riesci mai a debellare batteri e parassiti completamente stanno sempre dentro di noi dal primo all'ultimo giorno e cosa fanno? ci aiutano a eliminare le tossine si producono tossine nel nostro corpo perché? innanzitutto per carenza di certe sostanze nutritive mangiamo sempre le stesse cose diventeremo inevitabilmente carenti di certe sostanze nutritive e certe altre invece le avremo in eccesso più somma a queste due cause una debolezza di un certo organismo e una debolezza dell'organo queste tre cause messe insieme creano tutte le malattie degenerative compreso il tumore anche le più gravi malattie degenerative avviene quando le cellule anziché riprodursi ordinatamente si iniziano a moltiplicare caoticamente ed è lì in questa moltiplicazione caotica di cellule che vengono concentrate tutte le tossine perché il corpo ha una sua intelligenza non fa le cose a casaccio se il corpo crea un tumore è perché il tumore li serve ne ha assoluto bisogno per sopravvivere il tumore è il luogo in cui il corpo disperatamente sta tentando di concentrare tutte le tossine attraverso questa moltiplicazione caotica di cellule quindi il cancro non è la malattia il cancro è il tentativo di guarire del corpo la malattia è quello che facevi prima la malattia è il cattivo stato di vita la malnutrizione quella era la malattia quando il tuo corpo cerca di guarire quella è la guarigione o tentativo di guarigione ed è qui che intervengono i microrganismi simbiotici batteri parassiti eccetera eccetera inserendo altissime quantità di proteine animali crude uova latte derivate eccetera eccetera crudi e non pastorizzati innanzitutto tu dai nutrimento di altissima qualità mancante alle tue cellule ma soprattutto quella percentuale di batteri e parassiti che tu introduci nel tuo corpo non fanno altro che trasformarsi in alleati e accelerare la tua guarigione cioè ci sono sempre due aspetti in tutto un aspetto cosiddetto positivo e un aspetto cosiddetto negativo l'aspetto cosiddetto positivo è la concentrazione di nutrienti in queste sostanze cioè le proteine animali l'aspetto apparentemente negativo sono i batteri e i parassiti ma in realtà entrambi sono positivi perché mentre uno ti nutre l'altro elimina ciò che ti fa male cioè le tossine i parassiti i batteri mangiano ciò che è già marcio ciò che è già andato a male come dimostrano le scoperte della dottoressa Clark se sono interpretate in maniera diversa in un organo colpito dal tumore si concentrano tutti i parassiti proprio perché è lì che questi parassiti stanno andando a distruggere le cellule in più le tossine e così via lì dove serve i parassiti non hanno alcun potere sulle cellule sane ora che avevo promesso che sarei arrivato da qualche parte cosa c'entra tutto questo con la nostra liberazione dalla Matrix con la nostra liberazione da questo sistema dall'oligarchia corrotta dal nuovo ordine mondiale eccetera eccetera in un certo senso c'entra e come perché oggi voglio proporre un'ipotesi cioè un modello un modello è un'idea applicata a qualcosa e se l'oligarchia corrotta che governa il mondo in segreto anziché essere simile a un nemico fosse in realtà più simile ai batteri e ai parassiti che distruggono solo quello che è già marcio perché non hanno alcun potere su ciò che è sano questa è l'ipotesi ora siamo governati da dementi su questo non ci piove nessuno sta cercando di giustificarli nessuno sta cercando di assolverli però analizziamo qual è la funzione che stanno svolgendo nel mondo in questo momento questi governanti che ho appena definito dementi stanno dimostrando che stanno distruggendo tutto la crisi è iniziata nel 2007 siamo nel 2012 sono passati 5 anni tutto quello che hanno fatto ha avuto il solo scopo di aggravare questa crisi un laureato fresco fresco di economia e commercio totalmente inesperto di esperienza di vita sarebbe più capace dei nostri governanti di risolvere una crisi economica qualsiasi cosa hanno fatto in 5 anni ha aggravato il problema allora la loro missione è distruggere a questo punto è evidente se avessero voluto porre un rimedio a questa situazione anche per sbaglio alla fine ci sarebbero arrivati no la loro missione è distruggere stanno distruggendo la nostra società il nostro mondo la nostra economia ma attenzione cos'è che stanno distruggendo in effetti soffermiamoci a chiedercelo stanno distruggendo il sistema bancario e finanziario lo stanno letteralmente affossando però dall'altra parte chiediamoci ti sembra che ci sia qualcosa di sano in questo sistema bancario e finanziario stanno distruggendo un'economia basata sul debito come diceva quel video il gioco delle sedie musicali dove c'è talmente tanto debito nel mondo che il reale denaro non basta ripagare il debito che questa nostra società è il gioco più crudele che esiste è come quel gioco dove a un certo punto la musica si ferma e ci sono meno sedie che partecipanti al gioco qualcuno riesce a sedersi qualcuno rimane in piedi non riuscirà mai a ripagare il suo debito questa è la nostra economia attuale un gioco spietato di ricchi contro poveri questa è la realtà ti sembra che ci sia qualcosa di sano da difendere in questa economia basata sul debito che questi dementi stanno distruggendo poi cos'altro stanno distruggendo in effetti stanno distruggendo la follia della gente normale non i governanti quelli come me e come te stanno distruggendo il senso di irresponsabilità completa della come li possiamo chiamare la maggioranza pecorona la maggioranza conformista sono totalmente irresponsabili hanno un senso di pretesa il governo mi deve dare lavoro il governo mi deve dare pensione il governo mi deve dare l'assistenza sanitaria gratis il governo mi deve dare questo e quest'altro questo senso di pretendere tutto che non siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e impegnarci per ottenere qualcosa la maggioranza aspetta che il governo faccia qualcosa per loro che cos'è questa se non la più grande delle malattie mentali proprio il senso di irresponsabilità ed è questo che stanno distruggendo stanno distruggendo il senso e la certezza di poterti riposare sugli allori perché tanto c'è lo Stato che pensa per noi quindi io non devo fare niente è questo che stanno distruggendo e cosa c'è di sano in questo io ti domando ci sono addirittura segni chiarissimi ma su questo non mi voglio dilungare che loro stessi stanno distruggendo le false dottrine e le false religioni che loro stessi hanno creato ma su questo ci vorrebbe un episodio del podcast a parte su questo argomento poi ci sarebbe tantissimo da approfondire io ti dico che questo è il momento della guerra alla falsa religione che loro stessi hanno creato e lo stiamo già vedendo e infatti ci sono delle cose che io non dirò in questo episodio che sono successe perché tanto ne ha già parlato la repubblica ne ha parlato il corriere della sera ne ha parlato addirittura il sole 24 ore quindi non serve più che lo dica io così stanno distruggendo alla fine distruggendo il tessuto sociale distrugge il nostro egoismo in cui ognuno di noi si isola in una torre di cristallo come si dice in realtà una torre d'avorio dove ognuno pensa ai fattacci propri e se il vicino di casa muore noi neanche ci andiamo o cade per terra o sviene noi neanche lo andiamo ad assistere questo è il livello di egoismo e di inconsapevolezza in cui noi viviamo ne ho già parlato altre volte in questo podcast parlo di quelli che salgono sul treno fiondandosi a sedersi e pensare solo al proprio bagaglio quando accanto a loro c'hanno la vecchina che non riesce a salire sul treno e non riesce a trasportare il proprio bagaglio questo è l'egoismo e l'inconsapevolezza che stanno affossando i parassiti perché fra un po' le cose andranno talmente male che saremo costretti ad aiutarci gli uni con gli altri cosa c'è da salvare in tutto questo che ho nominato fino adesso non c'è niente da salvare allora se questa ipotesi che io sto facendo facciamo un'ipotesi sospendiamo un giudizio per un attimo e accettiamo provvisoriamente questa premessa se accettiamo questa ipotesi a questo punto resta solo da capire la mala fede perché la mala fede perché sembra che pochi stanno diventando ricchissimi qual è lo scopo di tutto questo del distrugge la nostra economia sono molti che hanno fatto notare le privatizzazioni l'economia viene distrutta arrivano pochissime si comprano tutto tutte le aziende tutte le proprietà tutti i beni immobiliari il demanio dello Stato l'oro l'argento i metalli preziosi tutte le ricchezze di uno Stato ex sovrano le utilities l'acqua la luce il gas l'olio il petrolio eccetera 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 pochissimi diventano ricchissimi e tantissimi stanno diventando poverissimi perché questo? beh a parte che a questa domanda potremmo anche tranquillamente non rispondere potremmo anche metterla da parte perché conoscere le motivazioni profonde dei batteri e parassiti simbiotici non ci interessa non cambia la realtà di fatto i batteri e i parassiti possono anche essere interessati a se stessi e sicuramente lo sono sono interessati solo a se stessi però ciò non cambia la realtà di fatto la realtà di fatto è che digeriscono le nostre tossine distruggono le nostre tossine quindi non cambia la loro motivazione soggettiva però a parte questo ecco le spiegazioni per questa malafede ce ne sarebbero agli osa tanto per cominciare loro i potenti potrebbero dire giustamente visto che siete così stupidi da credere in questa matrix a questo punto ve lo siete meritato potrebbero anche pensare questo no? beh in effetti non è un'ipotesi questo lo dice Barnard Paolo Barnard lo cita proprio nel video che ho consigliato la scorsa settimana cita i due economisti francesi che parlano fra loro e uno dice all'altro se il popolo europeo è così stupido da credere che l'euro è stato fatto per il loro beneficio e allora se lo meritano proprio credo che questa frase dica tutto e descriva la realtà poi uno potrebbe dire che ci sono diversi livelli di elite ci sono i livelli più esoterici più elevati o addirittura l'ipotesi di hidden hands eccetera 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 che questi livelli più elevati si servono di portaborse che sono motivati solo dal potere dall'ambizione dalla ricchezza anche questa può essere un'interpretazione però le interpretazioni lasciano il tempo che trovano il processo alle intenzioni non cambia i dati di fatto questo spiegherebbe tutto quello che stiamo vedendo i parassiti distruggono quello che comunque non vale la pena preservare fra l'altro potrei anche integrare potrei anche allargare questo discorso a fenomeni come quello di Grillo Beppe Grillo in questa settimana sul nostro blog è stato postato un articolo di denuncia violentissimo diciamo così di terze persone è stato riportato sul nostro blog contro Grillo e contro le persone che li stanno dietro che lo finanziano eccetera 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 però questo non cambia i dati di fatto sono stato il primo ovviamente a denunciare queste cose nella scorsa episodio però in effetti se ci soffermiamo a pensare e facciamo un respiro profondo Grillo non ha mai proposto di distruggere ciò che è buono anche perché in questo sistema di buono non ci sta proprio niente Grillo sta distruggendo solo ciò che è marcio e quindi oggi ti propongo un'altra chiave di lettura e se è vera questa chiave di lettura la scelta è un'altra non è se schierarsi da una parte o schierarsi dall'altra parte eccetera eccetera la scelta a questo punto diventa come si dice lasciare a Cesare quel che è di Cesare lasciare alla Matrix ciò che è della Matrix in altre parole smettere di concentrarci sul problema tornando alla metafora di prima della salute smettere di concentrarci sulla malattia questo è quello che fanno le multinazionali chimico-farmaceutiche ti vogliono lavare il cervello e costringerti a pensare la malattia così ti possano vendere loro le medicine e tenerti perpetuamente in uno stato di malato che è un altro dei loro modi di imprigionarci nella Matrix ed è un altro dei modi in cui noi dichiariamo la nostra incompetenza andando dal medico e assumendo i medicinali tossici che ci propinano il benessere non si conquista prendendo medicine contro la malattia il benessere si conquista concentrandosi sulla salute sullo stile di vita sull'alimentazione naturale liberarsi dai modi di pensare ripetitivi dalle emozioni negative eccetera 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 così allo stesso modo applicato agli argomenti del nostro podcast possiamo continuare a concentrarci ossessivamente sul problema oppure possiamo decidere per una volta di concentrarci sulla soluzione cioè quello che vado ripetendo dall'inizio vivere seguendo un nuovo sistema senza neppure aspettare che cade il vecchio in questo modo forse se abbiamo la visione aperta e siamo lungimiranti forse si potrà svelare un'armonia più grande in tutto quello che sta succedendo come molti dicono in fondo niente accade per caso un'armonia più grande dove noi che creiamo il nuovo all'interno del vecchio siamo come il nutrimento il nutrimento della salute nella metafora della paleodieta crudista noi siamo le nuove sostanze nutritive ultra concentrate e ultra nutrienti loro quelli che distruggono il vecchio che comunque non vale la pena di essere preservato sono come i batteri e i parassiti che distruggono ciò che è in marcio e alla fin fine involontariamente insieme avremo costruito qualcosa di migliore rispetto a quello che c'è adesso mi rendo conto che questo significa stirare al massimo la nostra flessibilità mentale pensare in questo modo ma io conosco i miei ascoltatori gli ascoltatori di questo podcast conosco te sono certo che non ti tirerai indietro quando si tratta di riflettere più a fondo su queste cose e di pensare con la propria testa continuiamo il discorso fra quindici secondi ok voglio leggerti il commento di una ascoltatrice che si chiama Francesca e Francesca qui si riferisce con questo commento a ciò che dicevo nello scorso episodio quando parlavo della metafora degli arconti e della metafora della matrix perché se non si è ancora capito queste per me sono tutte metafore parlavo della matrix e dicevo ci possono essere due strade una strada lunga alla liberazione della matrix cioè combatterla una strada molto 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 lunga l'altra strada è quella di riconoscere che è illusoria non è reale noi non apparteniamo alla matrix se la matrix non appartiene a noi e in questo caso la nostra liberazione può essere istantanea come uno schioccare di dita dicevo nello scorso episodio allora Francesca si ricollega direttamente a questo scrive questo intelligente commento grazie Italo o chi attraverso di te ci sta portando il corpo oggi ha avuto una scossa quando hai parlato dello schiocco di dita il corpo riconosce la verità e poi hai ripreso a parlare delle tue ricerche e a raccontare una nuova quando hai ripreso a narrare delle tue ricerche e raccontare una nuova storia è venuta la domanda ma perché Italo vuole di nuovo tornare nell'illusione mille grazie ancora Italo un abbraccio a Francesca Francesca grazie a te per l'intelligente domanda Francesca dice giustamente ma se abbiamo appena smascherato la matrix perché ricominciamo a parlare della dualità e dell'illusione quello che scrivi è molto acuto ed è molto vero Francesca ti ringrazio a nome di tutti è così come è vero che dobbiamo sempre più concentrarci sulla soluzione e non sul problema quello che dico in risposta alla tua domanda è che come dire visto che abbiamo due occhi e non uno solo dobbiamo tenere un occhio sull'aspetto assoluto e non duale quello che tu dici e l'altro occhio magari tenerlo sull'aspetto relativo che significa dobbiamo tenere un occhio sull'aspetto assoluto e non duale significa ricordarci sempre che questa vita è simile a un sogno questa vita è simile a un sogno e questo sogno ha delle regole le regole sono formate da tutti i dualismi tutti i paradossi e tutte le contraposizioni che viviamo però a un certo punto questo sogno come tutte le cose finirà e a quel punto ci risveglieremo da questo sogno senza dubbio questo risveglio che tutti quanti vivremo a un certo punto convenzionalmente viene chiamato morte quando lasceremo questa vita ci guarderemo alle spalle e capiremo che è stato tutto un sogno esattamente come quando ti svegli al mattino e ti rendi conto che tutto quello che hai immaginato nelle ore prima era solo un sogno in effetti il risveglio del mattino e il sonno della notte sono delle splendide metafore che ci arrivano ci aiutano a capire come funzionano la vita e la morte cosiddetta morte ora questa visione che la vita è un sogno dal quale ci risveglieremo e poi capiremo non credo di esagerare se dico che questa è la quintessenza di tutto l'insegnamento spirituale del mondo ogni luogo ogni tempo ogni cultura compresa le culture indigene native hanno formulato un'idea molto cioè un modello un modello cioè un'idea applicata molto simile a questa la vita è simile a un sogno quando ci svegliamo finalmente comprenderemo tutto e a quel punto capiremo cos'era veramente importante coltivare il buon cuore coltivare la saggezza coltivare l'altruismo coltivare la virtù eccetera ora questa verità che la vita è simile a un sogno è una verità profondamente iscritta nell'inconscio forse nei geni del genere umano perfino se tu sei ateo e sei materialista non puoi più credere oggi nel 2012 che al momento della morte quello che accade è che la coscienza si spegne come la televisione schiaccia il bottone nel telecomando lo schermo diventa nero non puoi credere se sei ateo o materialista che dopo la morte sperimenteremo il nulla perché il nulla non esiste non c'è nessuno al mondo che abbia ancora mai sperimentato il nulla quando guardiamo nell'infinitamente grande nell'universo più aumenta i nostri mezzi tecnologici e telescopi e così via per guardare lontano e più scopriamo nuovi mondi nuovi universi nuovi pianeti nuove galassie quando guardiamo nell'infinitamente piccolo più diventano potenti i nostri strumenti più scopriamo nuove cose quando costruiamo in laboratorio il vuoto pneumatico scopriamo il vuoto di aria completo scopriamo che dentro questo vuoto iniziano a sorge delle particelle apparentemente dal nulla nessuno è mai riuscito neanche in esperimenti scientifici del laboratorio estremi a riprodurre il nulla da una parte dall'altra parte ci sono ormai migliaia di libri basta che ti vai a fare una passeggiata in qualsiasi libreria o su amazon migliaia di libri che parlano di esperienze per i mortali persone morte clinicamente e poi in qualche modo rianimati o che in qualche modo non hai preso a vivere potrai leggere migliaia di libri centinaia di migliaia di esperienze che raccontano tutta la stessa cosa cioè la principale delle quali è che dopo la morte c'è un'esperienza la morte la coscienza o consapevolezza o mente che dir si voglia non cessa al momento della morte perché l'esperienza prosegue quindi questo è quello che noi non dobbiamo dimenticare mai l'aspetto assoluto della nostra vita l'aspetto non duale l'aspetto che tutto questo è un'illusione tutto questo è simile a un sogno tutto questo è una matrix è questo che intendevo prevalentemente quando parlavo di illusione nello scorso episodio e noi dobbiamo sempre tenere un occhio su questo aspetto assoluto perché ci aiuta a essere consapevoli di quello che sta accadendo però siccome abbiamo due occhi l'altro occhio dobbiamo tenerlo sull'aspetto relativo sull'aspetto duale sull'apparenza sui contenuti del sogno in fondo ci tocca dobbiamo farlo per forza perché è qui che siamo nati se siamo nati in questa dimensione un motivo ci sarà pure vuol dire che dobbiamo prendercene cura in qualche modo e questo significa chiarificare a noi stessi la nostra posizione nel mondo e soprattutto significa unirci ai nostri simili metterci insieme per creare un mondo migliore rispetto a come l'abbiamo trovato ora la consapevolezza la sfida della persona consapevole la parte difficile consiste nel fare questo senza mai cioè occuparci del relativo senza mai perdere di vista l'assoluto cioè chi siamo da dove veniamo e dove ritorneremo molto presto o presto o tardi il che significa rivolgere il nostro sguardo al duale alla realtà concreta che tutti i giorni è anche sensibile a un sogno senza però mai farci trascinare nelle emozioni distruttive nell'odio nella rabbia senza mai drammatizzare questo significa avere un piede in tutte e due le scarpe come si dice essere da una parte della parte dell'assoluto da una parte relativa come si dice essere in questo mondo senza essere di questo mondo senza essere sopraffatti dal terrore dallo scoraggiamento dal pessimismo dalla bruttura delle cose che vediamo perché se siamo al buio tanto dobbiamo sempre ricordarci che vediamo dalla luce e presto o tardi ritorneremo alla luce anche quello che sto dicendo adesso ha comune tutte le tradizioni spirituali genuine di questo mondo quindi la risposta alla tua domanda Francesca è quello che dobbiamo fare questa specie di ginnastica muoverci agilmente fra l'assoluto e il relativo su entrambi i piani e costruire una soluzione tu quindi dici perché poi torno indietro a guardare all'illusione ebbene sì Francesca ogni tanto dobbiamo anche tornare a guardare all'illusione e al sogno perché il sogno è solo un sogno però una cosa è un sogno piacevole una cosa è un incubo orribile almeno cerchiamo di trasformare questo incubo in un sogno è già un passo avanti se non per noi per coloro che credono nell'incubo e rischiano di rimanerne terrorizzati e questo è un aspetto e questa è una sfida l'altra sfida è l'altra sfida delle persone consapevoli cioè l'altra difficoltà consiste nel non sprecare tempo nel combattere la Matrix perché combattendo la Matrix noi la rinforziamo a parità di tempo e di sforzi noi possiamo costruire una realtà nuova senza aspettare che cada la vecchia ed ecco perché sto lavorando dietro le quinte ormai da mesi per aggiornarti volta dopo volta man mano che io stesso mi aggiorno e mi informo quello che sto facendo è di aggiornarti sul lavoro di One Heaven il lavoro di Ucadia e il lavoro di Frank O'Collins che è unico è unico sotto tantissimi punti di vista e letteralmente senza uguali anzitutto perché parte dall'individuo non parte dai movimenti di piazza dal tirare le pietre contro la polizia ad occupare il Parlamento eccetera eccetera sappiamo come vanno a finire quelle cose parte dall'individuo parte dalla sovranità individuale parte dal trasformare l'individuo in un sovrano al pari di una nazione non uno schiavo una batteria che serve per alimentare il sistema bacato quello è il primo passo partire dall'individuo e liberarlo renderlo sovrano il passo successivo dell'idea di Ucadia passa a livello della comunità perché negli esempi che abbiamo visto nell'episodio 9 di questo podcast sovranità individuale sovranità applicata eccetera eccetera alla fine le cose che proponevano tutte quelle persone proponevano ognuno per sé io sono un'isola a sé stante io sono un individuo sovrano non rispondo a nessuno ognuno per sé questo è un po' il modello isolazionista americano dell'uomo forte isolato dal mondo ma non è con questo che possiamo risolvere i problemi del mondo le soluzioni si creano nella comunità le soluzioni si creano quando un individuo sovrano inizia a interagire con un altro individuo sovrano e un altro un altro ancora e si crea una comunità sovrana e l'unico che ne sta parlando descrivendo e realizzando con tale lucidità è Ukadia One Heaven Frank O'Collins e poi non si è fermato qui ha affrontato di petto il problema più importante di tutti che è il problema del diritto il diritto cos'è la legge cos'è una legge giusta perché quando siamo io e te due persone non c'è bisogno del diritto ci mettiamo d'accordo è già difficile anche in una coppia per esempio però alla fine ci si riesce se viviamo in campagna una comunità agricola di dieci persone forse non abbiamo bisogno di diritto non abbiamo bisogno di leggi scritte ci mettiamo d'accordo su come si dice la regola aurea non fare agli altri quello che non vorresti ma non so perché in italiano lo dicono è negativo che è orribile bene sappi che è la stessa espressione in inglese è al positivo comportati con gli altri come vorresti che gli altri si comportino con te suona molto meglio rispetto al negativo questa è la regola d'oro se segui la regola d'oro comportati con gli altri come vorresti questa è l'essenza della virtù in una comunità di dieci persone si può seguire la virtù con un buono dose di successo quando arrivi a cento persone ci vuole sicuramente qualcosa di più inizi a essere in difficoltà ma una cittadina un paesino di diecimila persone è impossibile che possano diecimila persone interagire senza il bisogno di un diritto e quindi da qui l'esigenza di affrontare di petto e risolvere la questione del diritto che come abbiamo iniziato a dire proprio in questo episodio i potenti della terra hanno distrutto hanno fatto a pezzi realizzando l'anarchia scrivendo il diritto come pare piace a loro questa assenza di un diritto è anche il motivo per cui tutte le rivoluzioni o sono fallite o hanno peggiorato la situazione precedente allora Ukadia e Franco Collins hanno scandagliato tutta la storia del diritto di tutti i tempi e di tutti i luoghi oltre decine di migliaia di documenti di legge a iniziare dalle codici sumeri e ne hanno estratto l'essenza del diritto per poi riformulare l'essenza del diritto cioè la giustizia qual è l'essenza del diritto? è che tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge questa è la traduzione della regola d'oro tradotta in termini della legge tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge e non che i potenti si scrivono nelle loro leggi al loro comodo come sta succedendo adesso sotto i nostri occhi col trattato di Lisbona con il mess e con la dittatura europea quello che dobbiamo ripristinare è che tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge non gli uomini di serie A e gli uomini di serie B è il secondo presupposto che tutti gli uomini sono uguali di fronte a quella stessa legge quindi l'affrontare questo e non scrivere 33 codici 33 canoni di diritto non 1-2 33 in Ucadia si è e questo è stato un lavoro di 25 anni si è deciso di cominciare dalla fine anzi che cominciare dall'inizio cominciamo dalla fine prima per 25 anni sono stati stesi questi canoni di diritto che permettono a una società piccola di 10 persone poi 100 1000 10.000 100.000 milioni e tutto il mondo a scalare quali sono quelle leggi che consentono le persone di vivere bene e di siano sostenibili in termini non solo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma in termini di sfruttamento delle risorse di questo pianeta quindi prima è stato fatto questo per 25 lunghissimi pazientissimi anni e soltanto adesso si sta iniziando a tradurre questo in azione proprio adesso mentre io e te parliamo mentre io parlo e tu ascolti quindi in Ucadia si comincia dalla fine ed è proprio la fine che garantisce il buon esito di qualsiasi azione che noi andremo poi a intraprendere perché ha delle basi solide poi non si è fermata neanche qui la visione di Ucadia ha affrontato e ha risolto il problema economico e monetario e adesso ti parlerò un attimo anche di questo perché è centrale è importantissimo e poi è unico la visione di Ucadia perché ha creato una cornice di riferimento sotto la quale tutti si possono riunire tutti si possono riconoscere è un trattato minimo di coesistenza pacifica fra tutti gli uomini nel mondo che è il trattato di un solo cielo gli atei si possono riconoscere sotto il trattato di un solo cielo i materialisti si possono riconoscere sotto il trattato di un solo cielo le persone con interessi e motivazioni spirituali si possono riconoscere gli aderenti di qualsiasi tradizione religiosa perché Ucadia non è una religione ogni religione rimane intatta sotto Ucadia gli aderenti di qualsiasi tradizione si possono riconoscere nel trattato di un solo cielo incluso pagani esotterristi occultisti chi ne ha più le mette c'è posto per tutti nel trattato di un solo cielo il cui concetto fondamentale è basta guerra nel cielo fin tanto che c'è guerra nel cielo Yahweh contro Allah Allah contro Yahweh demoni contro angeli angeli contro demoni e così via paradiso contro inferno e chi deve decidere chi va in paradiso e chi va in inferno fin tanto che ci sarà la guerra nel cielo ci sarà sempre la guerra anche in terra è un concetto piuttosto facile da capire un bambino lo può capire fin tanto che ci sarà la guerra nel cielo ci sarà anche la guerra sulla terra il trattato di un solo cielo è stipulare la pace nel cielo e la pace sulla terra di quante altre guerre mondiali abbiamo bisogno per arrivare a un trattato di questo tipo e poi la cosa più importante che rende unica Ukadia ai miei occhi rispetto a qualsiasi altro sistema processo programma o movimento di sovranità individuale collettiva è per l'appunto che fornisce un modello completo che è un processo completo di ricostruzione della società umana partendo dalle basi non spreca tempo a entrare in guerra col vecchio sistema non si limita a finte soluzioni o a finte rivoluzioni abbiamo visto l'individuo sovrano che viene dall'america in italia abbiamo un caso che è il principato di filettino un piccolo comune si mettono d'accordo votano un referendum e diventano uno stato sovrano battono moneta si staccano dall'italia principato di filettino lo trovi su internet va bene abbiamo creato il nostro principato di filettino e dopo che problemi abbiamo risolto che principi seguono le leggi che ci scegliamo che natura ha la moneta che batteremo e così via in che cosa siamo migliori degli altri la risposta è in niente queste sono false soluzioni questa è la cosa più importante questa è l'unicità di Ucadia quindi tutto parte da cosa tutto inizia da cosa tutto inizia dall'individuo quindi tutto inizia da quel documento che ciascun individuo deve capire e deve firmare perché è il documento che trasforma ogni individuo insovrano sovrano sul proprio corpo sulla propria mente sulla propria energia sul proprio lavoro sul proprio spirito sul proprio talento e così via perché è questo che ci stanno rubando o che ci hanno rubato ed è proprio a questo documento che si riferiva a Franco Collins quando dicevo un paio di episodi fa mi ha detto se solo 5 persone in Italia firmassero questo documento il destino del vostro paese sarebbe alterato per sempre questo documento esiste in realtà è stato appena completato tutto quello di cui stiamo parlando si sta completando in questi giorni si intitola Will and Testament si basa sull'accettazione del trattato di un solo cielo che è il terreno comune sul quale l'individuo sovrano si vuole incontrare con altri individui sovrani altrimenti non serve a niente ed è di fatto un testamento questo Will and Testament è di fatto un testamento proprio come lo riconosce la legge italiana firmare il proprio testamento che io lo posso fare fin tanto che sono ancora in vita posso fare il mio testamento scriverlo firmarlo e affidare l'esecuzione di questo testamento quando io sarò morto a un esecutore testamentario solo che in questo caso faccio testamento e per mia espressa volontà affido l'esecuzione di questo testamento a un esecutore testamentario quando io sono ancora vivo in questo testamento quello che fai è di conferire tutti i tuoi averi iniziando dalla tua proprietà biologica che è il tuo corpo il tuo nome conferisci tutti i tuoi averi in un patrimonio o possedimento che è la mia traduzione personale del termine inglese estate estate penso che in attesa di una traduzione migliore lo possiamo tradurre come patrimonio o possedimento personale che è stato fondato da te e che porta il tuo marchio che tu avrai scelto quale sei il tuo marchio il tuo stemma il tuo emblema per preservare questo patrimonio questo possedimento questa fondazione si potrebbe dire non solo adesso ma anche nelle generazioni future questo testamento è stato scritto in completamente in un linguaggio che il sistema romano o romano trattino vaticano il sistema lo capisce benissimo questo linguaggio perché è il suo linguaggio in questo testamento tu accetti nella tua vita le offerte presentate dal trattato di un solo cielo perché il trattato di un solo cielo non è altro che un'offerta chi vuole vivere in pace sotto un solo cielo e su questa terra è una proposta ma poi spetta a te spetta all'individuo accettare questa proposta in questo testamento tu accetti solennemente questa proposta accetti di portare questa proposta nella tua vita e di diventare di fare della tua vita uno strumento di questo trattato così facendo conferendo tutti i tuoi averi in questo possedimento rinunci a tutte le tue proprietà le conferisci in un patrimonio da te stesso fondato e decidi di vivere come ministro apostolico mendicante aspetta scandalizzarti arriverò alla fine tutto sarà più chiaro rinunci alle tue proprietà decidi di vivere come ministro apostolico mendicante dove ministro è come un ministro di culto come un monaco e infatti attenzione questo è esattamente il linguaggio che noi stiamo usando perché questo è esattamente quello che ha fatto la falsa cristianità con i francescani e i gesuiti fondati a Venezia quindi loro capiscono benissimo questo linguaggio rinunci alle tue proprietà decidi di vivere come ministro apostolico mendicante nullatenente con la certezza che l'esecutore generale e custode del tuo patrimonio da te fondato si prenderà comunque cura dei tuoi bisogni materiali e chi è l'esecutore generale del tuo patrimonio? Franco Collins certamente no certamente no come esecutore generale tu nominerai all'interno del tuo testamento nominerai te stesso allora aspetta 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 come posso io essere al tempo stesso un mendicante apostolico ministro apostolico mendicante nullatenente e poi essere l'esecutore generale del mio possedimento allora attenzione se per questo tu puoi essere molto 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 di più che solo questi due ruoli in questa stessa vita il sistema romano ammette che tu possa avere diverse persone noi abbiamo diverse persone diverse personalità in questa vita quando siamo minorenni siamo figli diventiamo maggiorenni diventiamo adulti superiamo l'esame di guida prendiamo la patente diventiamo un conducente ci sposiamo diventiamo coniugati e assumiamo altri diritti e doveri in quanto coniugati abbiamo una nuova personalità abbiamo la personalità di padre quando abbiamo figli oppure abbiamo la personalità di impiegato sul lavoro o di libero imprenditore o di presidente di un'associazione o di membro della tua chiesa quanti ruoli hai nella tua vita già ne hai tantissimi allo stesso modo in Ucadia puoi essere imprenditore creare creare un immenso valore per il mondo non è che con un Kadia devi essere povero nulla tenente non puoi fare l'imprenditore al contrario puoi fare l'imprenditore puoi realizzare i tuoi talenti puoi fare l'artista puoi fare tutto quello che vuoi al tempo stesso puoi fare il coniuge al tempo stesso puoi fare il padre al tempo stesso puoi fare il membro della tua chiesa al tempo stesso puoi fare il ministro apostolico mendicante di Ucadia e al tempo stesso puoi essere l'esecutore generale del tuo patrimonio questo testamento ripeto è scritto secondo le regole del sistema romano vaticano regole che loro capiscono benissimo in modo tale da sottrarre tutto il tuo patrimonio alle rivendicazioni arbitrarie di soggetti terzi incluso lo stato fittizio in cui sei nato e incluso la oltraggiosa rivendicazione fatta da Papa Boniface VIII nella bolla papale Unum Santa Mecclesiam nel 1305 di cui ho parlato nell'episodio 8 per favore se non hai ascoltato l'episodio 8 vattelo a riascoltare perché è la base di tutto quello di cui stiamo parlando in questo particolare episodio ora domanda non c'è un conflitto di interessi nel fatto che noi stessi la persona siamo sia ministro apostolico mendicante sia esecutore del nostro possedimento? allora risposta numero uno nel fare questo tu hai incastrato il sistema lo hai messo in un angolo usando le sue stesse armi in modo tale che loro non possono dirti più niente perché nessuno può obbligare un esecutore testamentario a decidere cosa deve fare di quei beni di cui non è né proprietario né beneficiario perché la legge è chiarissima se tu sei esecutore testamentario non sei proprietario e non sei beneficiario e se tu come mendicante ministro apostolico mendicante hai rinunciato a tutto non puoi essere proprietario di quel estate di quella proprietà di quel possedimento di quel patrimonio che è a tutti gli effetti un trust avendolo conferito non ne sei proprietario e non ne sei beneficiario hai incastrato il sistema hai distrutto le sue armi non puoi fare più niente contro di te se sei nulla tenente se sei nulla tenente punto non c'è più nulla che possono fare contro di te curioso questo parlavo qualche scambiavamo qualche mail qualche giorno fa con Paolo Franceschetti l'avvocato Franceschetti che sicuramente conosci e spero di avere quanto prima come ospite di questi podcast adesso è in viaggio Paolo mi diceva da quello che ho capito io fino a questo momento le mie lunghe ricerche c'è soltanto un modo in cui è possibile essere liberi c'è soltanto un modo in cui è possibile fregare il sistema essere nulla tenenti lo diceva da avvocato in quel momento se sei nulla tenente non possono farti niente sei invulnerabile ho giudicato interessantissima questa risposta di Paolo Franceschetti è geniale a suo modo e conferma quello di cui stiamo parlando se sei nulla tenente sei nulla tenente punto e basta sei libero e questa è la risposta numero uno la risposta numero due a questo cosiddetto conflitto di interessi è che è proprio questo il compito la sfida di ciascun membro di Ucadia cioè diventare persone competenti diventare persone congruenti cioè coerenti in questo duplice ruolo perché avrai due ruoli oltre a tutti gli altri che hai nella tua vita avrai il ruolo di ministro apostolico mendicante aiuterai a portare la visione di Ucadia nel mondo indosserai sempre questa veste avrai sempre questo ruolo quando hai a che fare con le autorità sempre quando hai a che fare con qualsiasi autorità di qualsiasi istituzione fittizia appartenente al sistema romano vaticano tu vestirai i panni del mendicante apostolico del ministro lo sbaglio sempre del ministro apostolico pendicante da una parte dall'altra parte devi diventare competente nel tuo ruolo di esecutore quando vestirai i panni dell'esecutore quando amministri le faccende della tua vita della tua vita materiale della tua famiglia quando dovrai muovere soldi prelevare versare del conto corrente bancario eccetera 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 dovrai agire come l'esecutore ora qualcuno ha domandato a Franco Collins non sarebbe meglio che due amici si mettono d'accordo cioè diventiamo io e te entrambi ministri apostolici vendicanti firmiamo will and testament il nostro testamento però ci mettiamo d'accordo io sono esecutore del tuo patrimonio e tu sei esecutore del mio patrimonio a questo punto il sistema è proprio messo a terra a zero appigli non può più dire niente non c'è nessuno che possa fare niente per nessun appiglio per il sistema per incastrarti in qualche modo allora la risposta di Franco Collins questo era un audio un audio programma che Franco Collins fa ogni mercoledì sera nella sua risposta ha detto sì lo puoi fare tranquillamente ma perché piegarsi a dover ricorrere a stratagemmi quando il diritto ti consente di fare questo con onore quindi siamo arrivati a questo siamo arrivati all'individuo come dicevo questo è l'inizio del processo il processo di costruire una nuova società senza aspettare che crolli la vecchia e senza combattere la vecchia che è uno spreco di energie enorme continuiamo con questo processo tutto inizia dall'individuo tutto inizia con la riconquista della competenza e della sovranità da parte dell'individuo ora tutto questo ripeto sta avvenendo adesso l'ultima versione del testamento è stata pubblicata appena due settimane fa cioè nella stessa settimana in cui viene ha parlato Franco Collins ci sono alle spalle 25 anni di lavoro sui principi sui valori e sul diritto ed è proprio adesso letteralmente in questi giorni che tutti i frutti di questo lavoro stanno maturando nel passaggio a un'azione concreta tutto inizia con la riconquista della competenza e della sovranità dell'individuo che capisce e firma il proprio testamento ecco perché tutto parte dall'individuo in Ukadia non c'è spazio per perdere di tempo rivoluzioni anarchia tafferugli nelle piazze con la polizia eccetera 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 che sappiamo già dove va a finire il passo successivo dopo l'individuo è quando tre individui sovrani ciascuno dei quali ha compilato il proprio testamento per averlo capito si riuniscono tre individui liberamente ora attenzione è in corso di preparazione ma è proprio questione di giorni ormai un sistema sofisticatissimo di notificazioni o notifiche come si dice buh notifiche notificazioni gazzette ufficiali di Ukadia eccetera 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 in cui tu rendi noto alle autorità e al resto del mondo che hai compilato questo testamento e che sei un individuo sovrano e diffidi chiunque da occuparsi da appropriarsi indebitamente del tuo nome delle tue proprietà del tuo corpo della tua mente del tuo spirito eccetera 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 tutto questo è in corso di preparazione in questi giorni in fase di ultimazione tra individui sovrani si mettono insieme e formano un campus questo deve accadere su base locale perché il termine campus in Ukadia è l'equivalente di quello che noi chiamiamo città nel attuale sistema romano anzi noi diciamo comune non appena si forma un campus tutto il focus e tutta la concentrazione passa sul campus cioè ovviamente tanti campus ognuno nella propria realtà locale Ukadia non è affatto una struttura centralizzata anzi è pensata apposta per essere acefala cioè per diventare inarrestabile in pratica ora come dicevo le regole sono state già scritte il diritto è stato scritto il diritto che regola la vita di un campus è già stato scritto è tutto visibile do anche l'indirizzo anzi se vuoi www.globeunion unione globale unione globale scritto globe è trattino union globe trattino union punto org slash covenant in italiano covenant che significa trattato globeunion punto org slash covenant ci sono tutte le regole che regolano l'individuo il campus la provincia l'università gli stati le unioni fra gli stati eccetera eccetera già tutto scritto visibile se vai agli articoli dal 79 all'83 vedi tutta regolata la vita di un campus però ovviamente ogni campus può riscrivere le proprie regole ecco in che senso tutto il focus passa ai campus i campus decidono nel loro ambito soprattutto il campus è il focus delle attività che vengono fatte in Ucadia e quali sono queste attività? sono principalmente attività rivolte alla creazione di benessere di prosperità in favore della comunità locale anzitutto i membri Ucadia ma non solo i membri tutta la comunità locale è solo così che si può creare un'alternativa al sistema presente attraverso la creazione di lavoro attraverso la creazione di occupazione di attività socialmente utili impieghi utili e prosperità per tutti come si fa questo? grazie all'introduzione del sistema monetario Ucadia adesso ci arrivo tre campus si uniscono per formare una provincia la provincia è quella che noi nel nostro linguaggio chiamiamo regione riferito all'Italia e infine tre province ovviamente tutti quelli che si aggiungono dopo i primi tre individui tutti quanti si continuano ad aggiungere ovviamente nello stesso campus quelli che appartengono alla stessa città e così via dopo tre campus e tutti gli altri campus si associano alla stessa provincia e tutte le altre province si associano alla stessa università tre province formano università tre o più province formano università che equivale alla nostra nazione nel nostro caso l'università di lingua italiana oh come vedi questa visione corrisponde perfettamente a quella che dal primo episodio di questo podcast è la mia più grande di tutte le aspirazioni cioè basta pensare in piccolo è venuto il momento di pensare in grande il mondo è ridotto troppo male per continuare a pensare in piccolo è proprio l'altro giorno cosa che vedevo su youtube si sono riunite tutte le associazioni italiane no profit che lavorano nel sociale per migliorare il mondo eccetera eccetera per formare un'unica grande associazione e creare un nuovo partito bravi intelligentissima si sentiva proprio bisogno di un altro partito ma perché le persone più intelligenti devono sempre pensare in piccolo è un'ingiustizia non è più il momento di pensare non è più il momento di pensare andiamo al parlamento e creiamo un nuovo partito è ridicolo oggi che il parlamento non conta più niente tu vuoi creare un nuovo partito complimenti buona fortuna crea un nuovo partito il mondo è ridotto troppo male per continuare a pensare così in piccolo dobbiamo iniziare a pensare in grande la vita è simile a un sogno se conosciamo le regole e le strutture di questo sogno possiamo costruire un sogno durevole sostituire l'incubo con un sogno qualcosa di infinitamente migliore rispetto a quello che abbiamo oggi passiamo al denaro il denaro in Eucadia perché il problema che abbiamo oggi il problema del denaro il problema della nostra società il cuore del nostro problema è creato dal sistema romano trattino vaticano questo l'ho interamente spiegato nell'episodio 8 per favore vattelo a riascoltare o ad ascoltare per la prima volta l'episodio 8 è cruciale ho spiegato la nascita del sistema romano vaticano il sistema delle bolle papali il sistema della riduzione in schiavitù degli esseri umani e ho spiegato come è nato prima l'impero romano dalla sua natura pigra prepotente mediocre e parassitaria dove la priorità dell'impero romano è stato andare a nuova terra e proclamare proprie le terre e le risorse naturali del pianeta con una prepotenza e un'arroganza senza precedenti perfino in luoghi dove non esisteva il concetto di proprietà della terra così è iniziato il sistema romano l'idea non è quella di creare ricchezza l'idea di impadronirsi delle risorse una visione totalmente parassitare dell'economia che esiste ancora al giorno d'oggi anzi è quella dominante vigente poi subito dopo il sistema romano ha fatto il più grande furto della storia è un furto di identità ho iniziato a parlare nello scorso episodio è un furto di identità il sistema romano per mano del culto vaticano dedicato ai sacrifici umani alla Dea Cibele sul colle vaticano che andavano avanti fino al 200 a.C. e hanno continuato ad andare avanti in interrotti secoli dopo Cristo il sistema romano con l'aiuto del culto vaticano ha rubato l'identità della nascente cristianità gnostica distruggendola è di questo che ho parlato nello scorso episodio non a caso ho voluto parlare di questo nello scorso episodio l'undicesimo un furto di identità se noi oggi pensiamo cristianesimo uguale vaticano bene questo è il trionfo di questo menzogna è il trionfo di questo furto di identità portato avanti da questo sistema e le vediamo le conseguenze di questo sistema senza legge e senza morale quindi nel sistema vaticano vedi episodio 8 che è la prosecuzione del sistema romano abbiamo che tutte le terre del pianeta appartengono a noi noi vaticano noi papa siamo i padroni di tutte le terre del pianeta tutte le anime di questi incompetenti e naufraghi esseri umani appartengono a noi tutte le ricchezze mondiali appartengono a noi questo è il sistema romano vaticano ancora in vigore oggi in tutto il mondo ed è questo il motivo per cui noi italiani abbiamo tantissimo da farci perdonare a tutto il resto del mondo ed è importante che l'iniziativa in questo senso parta proprio da noi italiani e da questo nasce quello che abbiamo sotto gli occhi cioè tutto il sistema mondiale di accentramento delle ricchezze nelle mani di pochissimi o anche il sistema di tassazione il sistema mondiale di tassazione è stato inventato dal vaticano cioè dalla falsa cristianità ed è stato esportato in tutto il mondo come un franchising ora qual è la debolezza di questo sistema del sistema romano vaticano in tutto il mondo è che da materialisti quali sono perché questo sistema è il più materialista che esiste sul pianeta il più biecamente materialista hanno pensato a monetizzare le risorse ma non l'energia creata dagli uomini un materialista una persona moralmente corrotta come gli uomini che hanno fondato il sistema romano vaticano non riesce a capire l'energia prodotta dagli esseri umani può capire soltanto impadronirsi delle risorse impadronirsi della terra impadronirsi dei fiumi impadronirsi dei laghi impadronirsi delle terre coltivabili eccetera eccetera con la conseguenza che le risorse sono state espropriate tutte e anzi sono vicine a esaurirsi è per questo che il loro sistema sta crollando proprio adesso sotto i nostri occhi perché non c'è più niente da fare quando hai parassitato tutto la buona notizia che il nuovo sistema di Ukadia prenderà il sopravvento sul loro sistema parassitario senza che loro possano fare nulla perché il sistema monetario elaborato da Ukadia in 25 anni è basato sulla immediata trasformazione dell'energia cioè dell'attività umana in valuta ecco la grande differenza il denaro romano vaticano è basato sulla depredazione delle risorse il denaro in Ukadia è basato sull'attività degli uomini ecco come funziona in base a quello che io ho capito fino ad ora tutto parte dai campus tre o più persone si mettono insieme a livello locale e formano un campus il sistema monetario si basa su criteri oggettivi che sono gestiti con l'aiuto di un software non è manipolato dalla avidità degli uomini cosa succede quando più persone si mettono insieme e lavorano per qualsiasi cosa produttiva e utile producono automaticamente denaro questo denaro non è creato dallo sfruttamento delle risorse non è creato dal debito come adesso ma è creato letteralmente dall'attività umana nell'attuale sistema romano io sono motivato ad arraffare le risorse ma non sono motivato a cucinare a dar da mangiare ai poveri non sono motivato a ripulire l'ambiente dall'inquinamento perché se lo faccio non ci guadagno niente e le conseguenze sono sotto i nostri occhi nel sistema ucadia invece quando dieci persone si mettono insieme per esempio e vanno a dar da mangiare ai poveri nella loro comunità a livello locale in quel momento generano denaro automaticamente quando vanno a ripulire un luogo inquinato generano denaro automaticamente quando si mettono insieme per costruire un generatore di energia pulita alimentato da magneti come si diceva in questi giorni sul nostro blog creano denaro automaticamente quando aggiustano una strada generano denaro automaticamente e lo stesso dicasi per la persona che ha spirito imprenditoriale che vuole creare valore per il mondo vuole arricchire il mondo e arricchire se stesso che non c'è niente di male in tutto questo ora questo semplice shift questo semplice cambiamento dall'economia basata sulla depredazione depredazione come si chiama boh derubare le risorse al creare valore per gli altri questo semplice cambiamento è cento volte più rivoluzionario di tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi compreso il cosiddetto reddito di cittadinanza che è un'idea bellissima e nobilissima ma non si avvicina neanche da lontano a un'idea così nobile e così rivoluzionaria come questa qui del sistema monetario di Ukadia però ecco questo si può creare non dall'alto non è che dice dall'alto introduciamo il denaro no è giusto che questo possa soltanto partire dal basso cioè dall'individuo e dalle comunità locali è solo così che si può trasformare il mondo e questa è la genialità di Ukadia ed è questa a mio parere la genialità del fondatore di Ukadia Franco Collins che gode della mia massima stima del mio massimo rispetto ora non vedo l'ora di continuare ad approfondire questo discorso insieme a te sia nei prossimi episodi di questo podcast e sia durante l'incontro al vivo che faremo il 3 4-5 agosto 2012 in una località ancora precisata dell'Italia centro-settentrionale tra 15 secondi l'angolo dei valori e della spiritualità bene questa settimana voglio farti ascoltare un altro spezzone della registrazione di un corso di meditazione che ho ottenuto nel 2008 4 anni fa l'argomento è sempre la generosità potremmo richiamarlo potremmo chiamarlo riflessioni sparse sulla generosità ecco voglio fare una breve premessa sulla mia affermazione iniziale che sentirai in questa in questa registrazione perché dico che la la generosità se tu oggi pratichi la generosità questo diventerà causa karmica affinché in futuro tu possa sperimentare la ricchezza ora ok quindi essere generoso oggi per sperimentare prosperità in futuro cioè la generosità è causa karmica di ricchezza ora già siccome già sento le persone che iniziano a dire ah così colà iniziano a lamentarsi voglio voglio precisare che questi insegnamenti non sono fatti per essere presi in senso letterale sono metafore sono tutti mi hanno fatti complimenti quando ho parlato delle due verità in alcuni episodi fa la verità assoluta e la verità relativa ecco bene questa è la verità relativa quella che ci serve a migliorare serve solo a motivarci a migliorare ripeto tutti mi hanno fatto i complimenti però quando siamo andati a parlare di dottrine guai a chi tocca la mia dottrina c'è chi si è offeso perché allora la mia dottrina la mia di Italo Cillo quella di cui ti sto parlando la generosità è relativa come tutte le dottrine però almeno è consapevole di esserlo ok usiamo delle spiegazioni non perché sono assolutamente vere ma perché sono utili a migliorare noi stessi a migliorare il mondo essere di beneficio agli altri in altre parole tutte le nostre dottrine sono sempre metafore anche quelle della scorsa puntata quanti di voi hanno capito che quando parlavo di arconti quando parlavo di la creazione sorge da un'esplosione di luce sono metafore è importante che siano metafore che siamo consapevoli che lo siano perché la nostra vita è guidata dalle nostre metafore se le nostre metafore sono sane la nostra vita è sana se le nostre metafore sono malsane la nostra vita è malsana allora qualcuno mi ha chiesto ma Italo qual è possibile che tu Italo e tu buddista ci veni a parlare di arconti e della nascita del mondo con l'esplosione di luce eccetera eccetera non dovresti credere a cose diverse è ovvio che io da buddista io adoro tutte le buone metafore non ho nessun problema con le buone metafore l'importante è ricordarci che sono metafore io continuamente vado in cerca di nuove metafore ed è in questo spirito che ti ho proposto la metafora degli arconti nello scorso episodio ed è in questo spirito che continuerò a proporti nuove metafore anche ricavate da altre tradizioni spirituali e cosa ci servono le metafore servono a guidare la nostra vita e a mantenere alta la nostra ispirazione nessuna di queste metafore io la considero vera in senso assoluto le metafore dobbiamo giudicarle non in base alla loro verità fra virgolette ma in base ai risultati che producono ecco perché dicevo la metafora di un dio biblico maschio prima cosa discutibile padre seconda cosa discutibile violento e vendicativo terza cosa discutibile gelosissimo quarta cosa discutibile e tirannico quinta cosa discutibile che stipula alleanze col suo popolo il popolo dell'alleanza e questa alleanza è basata sulla distruzione di altri popoli e di altri dei non avrai altro dio lì fuori di me questo tipo di alleanza questo tipo di metafora è distruttiva e infatti ha creato nel mondo risultati distruttivi che sono nel mondo adesso sotto gli occhi di tutti ecco perché dicevo in un episodio precedente se usi la loro bibbia ti meriti la loro società perché la loro società la matrix che hanno creato l'hanno creata usando la bibbia come matrix la falsa metafora è la falsa dottrina della bibbia ora alcuni si sono offesi quando io ho detto questo è come dire mi hai toccato la mia metafora anzi ti sei permesso di chiamarla metafora che invece non è una metafora è una verità ora signore e signori quello che concepisce la mente umana è sempre una metafora il punto non è se è vera o meno il punto è se risultati virtuosi o meno nota bene c'è una cosa che tengo a dirti tantissimo perché la fede religiosa è uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona quindi ci tengo tantissimo a dire questo quando noi mettiamo se mettiamo in discussione la traduzione della bibbia come ad esempio ha fatto Biglino dicendo che il dio creatore non si evince quando traduciamo la bibbia direttamente dall'ebraico questa è solo la metafora che noi abbiamo messo in discussione non la nostra fede se tu credi in un dio creatore fatto di bontà non dovresti essere confuso alcuni mi hanno scritto tutte queste nuove informazioni in questi episodi sto iniziando a confondermi le idee per me la fede è importante non voglio essere confuso certo che la fede è importante devi tenerti ben stretta la tua fede un dio creatore fatto di bontà esiste anche se l'interpretazione di Biglino è corretta cioè che quello specifico dio biblico non era in realtà dio ma era un essere tirannico violento desp dispotico pluriomicida come si legge dalla bibbia no anche se l'interpretazione di Biglino è corretta questo non significa che un dio creatore fatto di bontà esista deve esistere se tu crei un dio sarà un monte di tutto questo come puoi pensare che non esista ora tutto questo io lo dico per il tuo bene per il bene di te persona credente lo dico per il bene di te persona credente principalmente di religione cristiana perché in questo periodo e questo è inarrestabile non c'è nessuno che possa fare niente duemila anni di menzogne stanno venendo a galla le cose di cui sto parlando io in questo podcast fra qualche anno se non fra qualche mese se non fra qualche settimana lo diranno i telegiornali se tu se non sei in grado di mettere in discussione le tue metafore come reagirai quando i telegiornali parleranno di quello che sto dicendo io adesso visto che tutti ritengono che i telegiornali siano veraci no? la maggior parte delle persone la verità è la verità punto la verità è inarrestabile quindi presto o tardi emerge è solo questione di tempo se vogliamo mantenere salda la nostra fede quando la verità emergerà dobbiamo cercarla nel nostro cuore nella nostra relazione diretta con il divino è lì che dobbiamo cercare la verità perché tutto il resto verrà smentito verrà smascherato in questa stessa vita e mia profonda convinzione che accadrà in questa vita perché è questa l'epoca del crollo delle menzogne e insisto su questi argomenti alcune persone magari si domandano ma perché insisto ripetutamente su questi argomenti insisto perché la falsificazione di duemila anni di storia a opera della cosiddetta cristianità è la base di questa matrix del sistema romano vaticano che ci sta oppremendo e schiavizzando in questo preciso momento dunque se vogliamo diventare liberi dalla matrix questo è sinonimo di smascherare duemila anni di false dottrine e duemila anni di falsa cristianità perciò è importante che i veri cristiani siano preparati a questo e si tengano stretta la loro fede coltivino la propria fede in maniera più profonda e non superficiale e difacciata perché altrimenti i cristiani saranno quelli più distrutti interiormente moralmente dall'emergere dalla verità quindi per questo ti ricordo tutte le affermazioni umane sono relative anzi guarda torno proprio all'argomento di questo chiudo la divagazione tornando a questa registrazione che voglio farti ascoltare tutte le affermazioni umane sono relative tutte le affermazioni umane sono metafore che servono se tu mi dici si va bene ma quella scrittura sacra non è umana va bene allora va bene allora cambiamo discorso se tu vuoi pensare che quella scrittura sacra non è umana aspetto che cambierai idea e ne riparleremo fra qualche anno ok però diciamo tutte le affermazioni umane sono relative sono metafore che servono a uno scopo lo scopo di ogni metafora deve essere quello di migliorare noi stessi migliorare il mondo ed essere di beneficio agli altri in questa registrazione che stai per ascoltare ti parlo di questa metafora cioè che la generosità è causa karmica di ricchezza futura lo scopo di questa affermazione non è di crederci per fede lo scopo di questa affermazione di motivarci cioè di incoraggiarci a essere più generosi oggi e certamente lo scopo non è quello di giustificare i ricchi gli diamo la giustificazione morale quindi vuol dire che se uno è ricco oggi vuol dire che se lo merita perché in passato ha praticato la generosità e allora li stiamo giustificando ma chi dice questo non ha capito niente dello spirito di questi insegnamenti è importante distinguere fra assoluto e relativo quindi detto questo ti lascio finalmente la registrazione che potremmo chiamare riflessioni sparse sulla generosità ancora una volta un corso di meditazione 2008 e ancora una volta chi voglia approfondire questi argomenti potrà approfondirli su www.meditazioneguidata.it che è il sito che ho creato appositamente per introdurre da zero alla meditazione coloro che non hanno alcuna esperienza precedente nell'insegnamento buddista sul karma e questo appartiene anche al piccolo veicolo al teravada si dice che la generosità è causa della nostra stessa ricchezza futura la generosità è causa di ricchezza futura karmicamente parlando se siamo ricchi in questa vita vuol dire che nelle vite passate abbiamo praticato la generosità e anche in questa vita se pratichiamo sufficientemente la generosità il risultato karmico di questo sarà una relativa abbondanza una relativa prosperità e così via questo è abbastanza confermato nella mia esperienza mi è facile vedere persone prospere che conosco direttamente o indirettamente che in un modo ovviamente c'è l'archetipo del zio paperone avaro che nuota nell'oro e si attacca alle sue cose e non le divide con nessuno ma questo è più che altro un archetipo una fantasia nella mia esperienza o nella vostra esperienza non so se è confermata anche per voi è facile vedere persone che non hanno mai avuto in vita loro problemi economici e sono tra le persone più generose che io abbia conosciuto che veramente si fanno in quattro per le altre o tutto quello che hanno lo dividono senza pensarci due volte solitamente c'è una parzialità in questo ma perché siamo esseri ordinari non illuminati quindi c'è una parzialità in questo quindi le persone aiutano i loro amici o aiutano le persone che gli sono simpati aiutano i loro parenti quindi dividono con i loro parenti però nel loro ambito ravvicinato quindi con questa parzialità nel loro ambito ravvicinato quello che hanno lo dividono sono sempre pronti ad aiutare gli altri e così via quindi esiste questo fondamentale senso di generosità nel continuum mentale di una persona prospera o di una persona benestante e quindi queste due cose sono abbastanza collegate d'altra parte psicologicamente parlando è abbastanza ovvio quando noi doniamo non è che solo le azioni scaturiscono dalla nostra mente anche il contrario è vero le azioni nutrono la nostra mente come un percorso di feedback continuo dalla qualità della nostra mente scaturiscono i nostri pensieri e le nostre azioni ma anche dai nostri pensieri e delle nostre azioni cambiano la qualità della nostra mente quindi il donare riempie la nostra mente di impressioni positive iniziamo a pensare a noi stessi non più come una persona bisognosa o che entriamo nelle circostanze della vita dal punto di vista dell'uomo povero che ha sempre timore deve sempre chiedersi cosa se ho abbastanza o se questo va bene o se questo mi creerà problemi e così via ma entriamo nella vita entriamo nel mondo dal punto di vista dell'uomo ricco di quello che ha sempre qualcosa da dividere con gli altri non importa quanto poco o quanto tanto abbia da condividere con gli altri quanto abbiamo da condividere con gli altri questo è anche un vantaggio della pratica della generosità non importa veramente quanto materialmente concretamente abbiamo da condividere con gli altri se abbiamo poco possiamo condividere poco se non abbiamo niente possiamo condividere i nostri buoni pensieri possiamo condividere le preghiere possiamo condividere i nostri auguri i nostri auspici di felicità per gli altri non importa quanto poco o quanto tanto siamo in grado di condividere il fatto che noi siamo portati a condividere desideriamo condividere con gli altri abbiamo una buona motivazione nel farlo queste sono veramente le due cose più importanti il desiderio di condividere la buona motivazione nel farlo sono la cosa più importante a volte un semplice sorriso un semplice atto di gentilezza a volte donare significa semplicemente essere sensibili o aperti in ogni data situazione non solo ai miei bisogni e alle mie esigenze ma anche ai bisogni e alle esigenze di tutte le altre persone coinvolte in questa stessa situazione quindi donare un sorriso donare una parola di rassicurazione donare un gesto che ne so che sdrammatizza una tensione che si è venuta a creare in quel momento vedere noi stessi come persone che hanno qualcosa da donare nelle varie situazioni veramente trasforma la nostra percezione questo è quello che nel buddismo vajrayana chiamiamo la visione pura visione pura vuol dire iniziare a trasformare anche la visione di noi stessi in ogni circostanza noi abbiamo sempre qualcosa da dare è incredibile o se guardo indietro nella mia vita l'inizio della pratica spirituale quanto tempo io stesso ci ho messo a capire questo e quindi questo mi fa capire che probabilmente per tutti noi è così visto che siamo più o meno tutti uguali e la nostra mente funziona più o meno dello stesso modo all'inizio all'inizio del mio percorso spirituale per me era difficilissimo forse la più grande sfida forse per ciascuno di noi la più grande sfida è veramente capire questo come noi abbiamo tanto da dare agli altri abbiamo tanta ricchezza dentro di noi questa è la cosa più difficile da ammettere abbiamo tanta ricchezza dentro di noi abbiamo tanto da dare agli altri in qualsiasi momento c'è qualcosa che noi possiamo dare in qualsiasi momento c'è un contributo positivo che noi possiamo dare agli altri che può essere un semplice gesto di gentilezza un semplice gesto di generosità un semplice sorriso non esiste una situazione in cui noi non possiamo intervenire migliorandola è ovvio che se siamo concentrati su noi stessi questo non accade quindi anche in che senso vogliamo aprirci alla generosità e quindi questo ancora una volta trasforma la nostra percezione di noi stessi ancora una volta dal punto di vista dell'uomo povero al punto di vista dell'uomo ricco nella meditazione guidata che abbiamo appena fatto il Buddha si risolve in luce il Buddha prima è nello spazio di sopra della nostra testa ed è esterno a noi stessi poi il Buddha si risolve in luce ed entra in noi e noi diventiamo il Buddha questa capacità di trasformare la nostra percezione da una percezione ordinaria di una persona ordinaria piena di difetti come siamo abituati a vedere noi stessi trasformare questa percezione invece in una percezione pura questa è veramente una chiave speciale importante molto veloce nel progresso personale e spirituale lo facciamo in tutte le pratiche in tutte le pratiche Vajrayana questa mattina presto abbiamo fatto la pratica del Nondro facciamo la pratica di purificazione di Vajrasattva il Buddha bianco della purificazione ci inonda di luce ci purifica ma alla fine della meditazione lui si risolve in luce e si risolve in noi e diventiamo la stessa cosa io divento Buddha Vajrasattva e in quel momento veramente se vogliamo pensare questo è successo veramente io veramente sono diventato inseparabile dal corpo dalla parola e dalla mente del Buddha Vajrasattva se riusciamo a pensare questo per davvero se riusciamo davvero a pensare che è successo veramente questo crea delle profonde trasformazioni nella nostra vita nel nostro modo di pensare a noi stessi e quindi questo è molto collegato alla generosità ancora una volta non c'è differenza fra uno potrebbe pensare che il beneficio principale della generosità è quello che le altre persone che ci circondano guadagnano una maggiore felicità invece questo arricchisce noi stessi la generosità arricchisce colui che dona quasi più di quanto arricchisce colui che riceve no? ancora una volta la generosità è sicuramente l'antidodo principale dell'attaccamento e ancora una volta vogliamo sempre ricordare quanto l'attaccamento non è per noi un buon amico la dipendenza emotiva verso le cose le persone le circostanze esterne non è per noi un buon alleato nonostante noi pensiamo che lo sia come dicevo prima i punti di riferimento anche per esempio perché si dice la pratica è in ritiro in tutte le tradizioni buddiste vengono elogiate le qualità positive di prendersi un periodo di ritiro ma questo è già un periodo di ritiro e già sentiamo come si muovono tante cose dentro di noi per esempio c'è fatto un ingrediente fondamentale e noi magari non ci siamo mai soffermati a pensare questo un ingrediente fondamentale proprio che siamo staccati dai nostri luoghi di riferimento normali non abbiamo la nostra credenza con i nostri cassetti dove sappiamo cosa trovare dentro sappiamo tutta la nostra vita è incasellata tutto ordinato sappiamo il frigorifero sappiamo cosa troveremo schiacciamo un bottone sappiamo cosa ci aspetta è tutto preordinato quando veniamo in un posto come questo la nostra energia che è risucchiata solitamente da tutti questi punti di riferimento esterni ritorna in noi è come se la nostra mente ritorna a se stessa e a quel punto possiamo iniziare a guardarla e a lavorare con la nostra mente quindi questo vale per occasioni come questa e vale anche per occasioni di ritiro sempre incoraggio i miei amici studenti del nostro Sangha quando sia possibile che sia per un weekend che sia per una settimana intera che sia per due settimane che sia per il tempo che è possibile apprendersi dei periodi di ritiro individuale ovviamente non è che uno parte un periodo di ritiro individuale e non sa cosa fare inizia a improvvisare è bene partire con un programma quindi un programma di pratica di meditazione di solito il ritiro non si dedica tanto a studiare e a leggere anzi si preferisce evitare questo di solito il ritiro ci si dedica proprio alla pratica quindi avere una pratica avere un programma uno sa che farà sei sessioni al giorno oppure farà quattro sessioni al giorno eccetera eccetera uno parte con un programma e piano piano entrando in questo flusso succedono i cambiamenti succedono arrivano i miracoli arrivano le benedizioni o si fanno sogni particolari di buon augurio o si fanno esperienze particolari nella meditazione o fuori la meditazione al di fuori della meditazione e una parte di questa forza deriva proprio dal fatto che abbiamo lasciato i nostri punti di riferimento normali che spesso sono altre persone possono essere altre persone siamo abituati ad appoggiarci agli altri o siamo abituati che le persone con cui viviamo insieme i nostri cari faranno certe cose al posto nostro oppure se ho bisogno di qualcosa posso trovare consolazione posso andare a trovare un punto di riferimento lo stesso vale per le cose per le situazioni e così via sappiamo sempre a cosa appoggiarci quando siamo in ritiro non sappiamo più a cosa appoggiarci ecco in quel momento siamo noi e la nostra mente e il cielo e i Buddha e non abbiamo molto altro su cui fare affidamento e in quel momento veramente si creano delle buone esperienze penso che questo del ritiro per noi oggi come oggi è la più grande sfida è la cosa più difficile per i ritmi di vita quotidiana dobbiamo mantenerci pagare l'affitto guadagnarci guadagnare mantenere la famiglia e così via quindi prendere dei periodi fuori è per noi la più grande difficoltà la nostra sfida principale però bisogna anche pensare che questa vita è molto breve questo ha i suoi pro e i suoi contro questa vita è molto breve oggi ci sembra dei piedi di impegno ma presto magari saremo pensionati e avremo tanto 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 tempo a nostra disposizione e con le conoscenze di oggi nel campo delle vitamine della nutrizione della vita salutare non è che uno a 55 anni 60 anni è vecchio al giorno d'oggi uno a 55 60 anni è giovane ha tanto da fare e se pensiamo a quanto ci resta da vivere a quanti decenni ancora ci restano da vivere dal giorno dei nostri 60 anni se iniziamo da oggi a entrare in questo modo di pensare o a aspirare a formulare dentro di noi l'augurio che noi si possa essere in grado sempre più in futuro di praticare e se oggi pratichiamo manteniamo questa connessione magari arriverà il giorno della nostra vita che avremo molto più tempo per praticare le persone ordinarie a quel punto non sanno più cosa fare vanno completamente in angoscia le persone più dinamiche iniziano a saccaggiare tutte le agenzie turistiche iniziano a fare viaggi però viaggiare costa un sacco di energia viaggiare sperpera un sacco di energia accorcia anche la vita disturba l'energia del corpo fare tante attività esteriori e sono distrarsi 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 e poi uno si ritrova vuoto dentro quanto più viaggia 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 si distrae poi si ritrova vuoto dentro e se invece noi riusciamo a pianificare la seconda parte della nostra vita in un luogo tranquillo senza troppi stimoli senza troppa televisione cinematografo e così via una cosa che veramente conserva la nostra energia conserva la nostra mente una vita quieta con ritmi naturali a contatto con la natura questo è perfettamente possibile visto che ci aspetta una lunga seconda parte della nostra vita se riusciamo a pianificarlo in questa maniera e già da adesso abbiamo mantenuto una connessione con la pratica sicuramente in quel periodo della nostra vita ci sarà un immenso beneficio per noi stessi una immensa crescita ancora una volta come noi immaginiamo le cose così diventano se noi ci immaginiamo una vecchiaia deprimente probabilmente la nostra vecchiaia sarà deprimente se noi immaginiamo la nostra vecchiaia o diciamo la parte finale della nostra vita come ricca piena di opportunità opportunità di miglioramento così sarà per noi di solito si realizza quello che noi pensiamo quello che noi vediamo tende sempre a realizzarsi e quindi è bene avere bene in mente chiaro cos'è che immaginiamo di noi stessi come vediamo il nostro futuro come vediamo la nostra vita come vediamo la seconda parte della nostra vita perché se la vediamo in maniera ristretta e triste probabilmente sarà ristretta e triste se invece la vediamo come un momento utile e prezioso sarà un momento utile e prezioso così siamo arrivati alle risorse consigliate di questa settimana ti ricordo che le risorse consigliate le trovi sempre sotto lì al pulsante dove scarichi questi audio subito prima dei commenti ci trovi le risorse consigliate il primo che troverai è il pdf il documento originale il documento di accettazione incondizionata accettazione condizionata del debito con cui il nostro Andrea ha contestato il debito ha contestato il debito che gli veniva contestato dalla banca relativo a un fido fido bancario affidamento bancario e quindi lo trovi qui vedi se e come riesci a trarne utilità la seconda risorsa consigliata è un film si intitola Dark City e possiamo dire che il nostro Sebastiano che ormai viene nominato il cinefilo ufficiale della nostra comunità ha colpito ancora Sebastiano era quello che aveva notato la similitudine fra il nome di Neo di Matrix e Thomas Anderson stavolta ci ha consigliato sulle pagine del nostro blog un film chiamato Dark City che esemplifica perfettamente il discorso sugli arconti cioè i gestori segreti della Matrix che abbiamo fatto nello scorso episodio questo 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 film è interamente disponibile su Youtube te lo raccomando trovi il primo video della serie lo trovi qui sulle nostre pagine poi trovi basta con l'ultima risorsa trovi una una un link a un blog molto molto interessante è il blog chiamato connessione cosciente che risponde alla url di connessionecosciente punto wordpress punto com ha una marea infinita di traduzioni dall'inglese esattamente degli argomenti di cui ci occupiamo su questo podcast fra cui troverai la più completa ricostruzione storica in lingua italiana di quello che chiamiamo il sistema romano vaticano molte di queste traduzioni sono prese dai siti e dal lavoro di Franco Collins se vuoi una panoramica completa se ti interessa la storia soprattutto se ti piace leggere perché qui c'è tanto da leggere ti raccomando soprattutto su questo sito connessione cosciente di cui trovi il link connessionecosciente punto wordpress punto com ti raccomando il menu orizzontale in alto non ti perdere quello che è fondamentale il menu orizzontale in alto seguilo in ordine da sinistra a destra perché è in ordine cronologico comincia dalla storia dei sadducei poi continua con il giudaismo i nazareni o gnostici poi parla dei desposini la famiglia di Gesù e continuando finendo fino alla storia del cristianessimo intesa come la falsa cristianità che è la radice del sistema romano vaticano questa ricostruzione storica sarà di grande sollievo per quelli che hanno scritto sul blog e Gesù allora io sono preoccupato per la mia fede ho fatto un'esperienza spirituale di Gesù e così via e sono preoccupato di questo e così via bene se tu hai esperienza spirituale di Gesù qui su queste pagine troverai una ricostruzione storica perfettamente compatibile con la tua esperienza di Gesù con la tua fede e con l'esistenza di un Gesù storico realmente esistito d'altronde i capisaldi della fede cristiana sono due un divino creatore è l'insegnamento di amore di Gesù nessuno di questi due capisaldi potrà mai essere messo in discussione né da qualsiasi scoperta scientifica né da qualsiasi falsa dottrina creata dagli uomini nei secoli allo scopo di schiavizzare altri uomini tra 15 secondi riflessioni finali e conclusione così concludiamo con un commento sul blog che è uno degli ultimi commenti arrivati in ordine di tempo ci scrive Gabi Italo ti stimo per il lavoro che fai vorrei porti una questione leggo spesso che si attribuisce sempre la responsabilità all'individuo anche nel coaching d'impresa io credo però che non sia sempre così penso anche che sia giusto puntare all'eccellenza nella competenza ma esistono vincoli di ambiente regole vessatorie corruzione eccetera oltre che limiti personali non tutti possono essere i migliori ma tuttavia hanno diritto di vivere in modo dignitoso è giusto motivare ma non mortificare per responsabilità non proprie tu che ne pensi ben detto Gabi sono pienamente d'accordo con te nota bene lo spirito d'iniziativa degli individui liberi è quello che muove il mondo quindi il libero imprenditore è uno degli esempi migliori di talento di creazione messi al servizio degli altri ed è l'opposto del sistema romano-vaticano che invece è di natura mafioso e parassitario cioè non crea valore per gli altri non a caso questo sistema romano non è mai stato né realmente capitalistico né realmente imprenditoriale perché hanno paura di queste cose hanno paura della libertà degli individui che le portano avanti curioso come anche tutti i sistemi di estrema destra e di estrema sinistra abbiano in odio la libera iniziativa imprenditoriale così come tutte le è un fenomeno molto molto interessante e poi ancora l'imprenditore le banche oggi nel loro tentativo che sta andando a buon fine di distruggere completamente la nostra economia cosa stanno facendo? chi sono i primi che colpiscono? stanno distruggendo l'imprenditore che sono le prime vittime di questa di questa crisi bancaria finanziaria economica eccetera eccetera poi la gente vuole il posto di lavoro vuole il diritto al lavoro vogliono il pieno impiego la piena occupazione ma chi offrirebbe posti di lavoro se non ci fossero gli imprenditori a creare valore per gli altri quindi la libera iniziativa individuale è alla base della salute di una società per questa ragione dieci e lode a coloro che promuovono la responsabilità e la libera iniziativa individuale come dici tu come parte di un programma di sviluppo sia personale sia professionale c'è bisogno di più persone liberi libere e intraprendenti quindi tu dici aumentare le responsabilità certo dici aspetta dici è giusto motivare ma non mortificare per responsabilità non proprie ecco l'idea di questo coaching che tu chiami coach d'impresa è ridurre sempre più quelle che tu definisci responsabilità non proprie capisci questa è l'idea renderti conto invece che sempre più aspetti della tua esperienza sono in realtà responsabilità tue e quando tu capisci che sono in realtà responsabilità tue e non non proprie è allora che tu le puoi cambiare questo è molto importante questa espansione della consapevolezza quindi in questo senso il lavoro di questi che tu definisci di coaching per me è incondizionatamente incondizionatamente positivo perché aiuta a migliorare gli individui e aiuta a migliorare il mondo ora detto questo l'altra faccia della medaglia è quella che tu suggerisci cioè la solidarietà fra gli esseri umani e il fatto che ognuno di noi deve dare del proprio meglio per progredire non significa che chi non riesce a progredire debba essere lasciato indietro questo fra l'altro è uno dei motivi principali che mi spinge a fare questo podcast dal punto di vista proprio strettamente personale quindi grazie della tua precisazione e del tuo intervento Gabi questo episodio dodicesimo episodio volge al termine anche questo per mantenerti collegato di qualsiasi novità non mancare di iscriverti alla mailing list è importantissimo trovi il form e descrizione subito sotto il pulsante da cui scarichi ogni episodio l'indirizzo web di questi episodi di questo podcast è sempre www.tempodicambiare.it è lì che sono archiviate tutte le puntate precedenti e future fallo ascoltare passaparola se ti sembra meritevole e questo episodio dodicesimo voglio concluderlo con un col commento di leonarda che ci scrive sul sul blog ci scrive che bello ho trovato una ora una bella frase in giro per internet e voglio condividere con voi due punti il risveglio di un'umanità è quando ogni singolo individuo abbatte il potere che esercita su di lui l'esteriorità del mondo quel potere che è in catena alle apparenze è ad ogni velletà dell'ego e scollega dalla fonte divina il risveglio è comprendere che siamo divini e che dai nostri pensieri e azioni dipende il nostro destino leonarda grazie infinite per questo splendido pensiero grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori noi ci sentiamo giovedì prossimo ciao da Italo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.